Questo convegno fa parte di una tappa, di un percorso che abbiamo avviato entro quello che è il nostro progetto di agricoltura sociale, di sviluppo locale dell'agricoltura sociale che fa capo al servizio sociale dei comuni di cui sono referente e che al contempo si inserisce dentro quello che è il progetto Paes di Rustica Mur della strategia del piano di sviluppo rurale che appunto è Sistemi Integrati di Cooperazione Territoriale per un sviluppo locale sostenibile ed inclusivo. Questo progetto come progetto di ambito dentro il PSR che si chiama Sviluppo Rete Azione Agricoltura Sociale fa parte di un'esperienza che è maturata tanto tempo fa. Sicuramente parte come sviluppo locale dal 2008 con l'avvio del progetto La Volpe sotto i Gelsi ma a radici ben più lontane, ancora negli anni 90 quando un lascito di un cittadino locale ha fatto un lascito di un terreno e di un casale al comune di San Vito al Tagliamento. In quell'occasione c'è stata appunto questa idea creativa di partenariato pubblico privato, comune, azienda sanitaria e cooperativa per l'attivazione di una serra e di un'attività orticola che ha permesso di inserire persone svantaggiate nell'area della psichiatria con una funzione riabilitativa e poi anche con una funzione di inserimento sociale per le persone svantaggiate. La svolta si è avuta nel 2008 con l'avvio appunto del progetto La Volpe sotto i Gelsi dove la visione a rete si è ampliata tra servizio sociale dell'ambito e quindi comuni dell'ambito, azienda sanitaria e una rete di cooperative sociali di cui il Piccolo Principe è stato il capofila di queste cooperative che poi andrò a nominare. L'esperienza che è maturata con l'attività del Piccolo Principe rispetto al progetto La Volpe sotto i Gelsi, sicuramente in un territorio fertile come quello dell'area vasta del Pordenonese che ha visto in quel momento la provincia di Pordenone attivare la rete delle fattorie sociali e ha permesso di andare oltre a percorsi che prevedevano l'inserimento lavorativo e l'inserimento sociale nei contesti come fattoria sociale, non nei contesti delle aziende agricole e delle cooperative e è stata un'opportunità di fare un salto per poter pensare ad un progetto di promozione della comunità, di sviluppo locale proprio perché fare agricoltura vuol dire che l'agricoltura può essere una risorsa per procurare benefici e benessere alle persone e alle popolazioni e quindi da qui sviluppare un progetto territoriale. Da questo con l'accompagnamento del dottor Grizzo che è qui presente, che lo ringrazio, è stato il sostegno e anche la visione che lui ci ha dato che è una visione ambiziosa sicuramente quella di mettere in rete aziende agricole, cooperative sociali, enti istituti che hanno una funzione poi di coordinamento e anche di accompagnamento per promuovere uno sviluppo locale per fare in modo che promuoviamo coesione sociale e benessere della comunità. Mi premeva il progetto sia locale dell'ambito sia il progetto che si interseca del PSR hanno quattro elementi chiave che li caratterizza, che mi pareva importante dirvi. Uno è la valorizzazione e la promozione del territorio locale e della sua comunità. Come dicevo appunto il progetto ha radici in questo territorio dell'ambito territoriale, tagliamento, che comprende otto comuni con circa 45.000 abitanti di territorio in un territorio rurale dove l'agricoltura ha un ruolo significativo. Oltretutto con il progetto PSR coinvolgiamo altri due comuni, per cui arriviamo al 10 comuni, con il coinvolgimento anche di altri soggetti. Per cui dai 30 soggetti che noi pensiamo che abbiamo all'interno della rete dell'ambito aggiungiamo anche gli soggetti che ci sono della rete del PSR. Ecco, per cui una rete molto ampia che può essere quel contesto e quella base appunto per promuovere una presa in carico comunitaria forte. La costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico, inclusivo e sostenibile, come dice anche il PSR, dove l'agricoltura ha un'opportunità se riusciamo a potenziare l'aspetto della multifunzionalità dell'agricoltura dove si tratta appunto di una funzione che l'agricoltura può avere al servizio della salute, al servizio del welfare, come generatrice di benefici per alcune fasce vulnerabili sicuramente della popolazione ma anche proprio per il benessere della popolazione. E non ci può essere una crescita economica senza appunto una visione territoriale, senza una coesione sociale. Ed è per questo che il terzo elemento chiave è quello del creare reti tra i diversi attori pubblici e privati con la possibilità di tessere una rete tra attori e luoghi per far nascere servizi e interventi innovativi a partire dalla multifunzionalità dell'agricoltura. E quindi si tratta proprio di aumentare la consapevolezza dei singoli soggetti per poter costruire insieme possibilità e opportunità di servizi e di beni per la comunità stessa. e quindi condividere quelli che sono i bisogni e quelle che sono le possibili risposte che possiamo dare insieme a partire dall'agricoltura. Infine, costruire metodologie e strumenti di lavoro a partire dalle buone pratiche. All'interno, come vi dicevo, appunto di questo spazio messo dell'ascito c'è un casale che è stato ristrutturato e qui abbiamo pensato di avviare un punto di riferimento e di documentazione per raccordare quelli che sono i partner per raccogliere tutte le buone pratiche ma non solo in termini di documentazione ma proprio costruire metodologia di lavoro e riuscire a consolidare delle competenze e delle professionalità nel territorio oltre a costruire strumenti di lavoro e di validare questi strumenti di lavoro anche scientificamente. Questo come obiettivo, quindi, avviare questo modello di sviluppo agroecologico a partire appunto dal potenziamento della rete di agricoltura sociale fra aziende agricole e terzo settore ed è un aspetto che stiamo facendo. Allora, prima di passare a quello che è lo stato dell'arte del progetto oggi, io passerei la parola a chi ci ospita e quindi al sindaco di Valvasone Arzen per poi passare la parola al vicepresidente dell'ambito e al consigliere regionale Marcos Maier. Grazie, grazie a tutti. Allora, intanto buongiorno e porto il saluto di tutta l'amministrazione a tutti i presenti, ai relatori, agli esperti, i tecnici e alle cooperative che fanno parte di questo progetto e anche tutti i partner privati. Spero di non dimenticare nessuno ma casomai mi scuserete, insomma. Come ha spiegato bene la dottoressa Zandotti è un progetto veramente a 360 gradi sul territorio e quindi senz'altro è positivo che siano stati coinvolti tutti gli elementi a partire dalla realità del nostro territorio fino all'ambito del San Vittese tutte le istituzioni e tutte le cooperative che sono poi interessate. Ringrazio intanto i presenti qua c'è tutta una rappresentanza del Consiglio Comunale l'assessore delle politiche sociali la dottoressa Bottacin il consigliere con la delega dell'agricoltura Francesco Nocente poi insomma abbiamo un concittadino consigliere regionale che farà il suo intervento dopo. Mi permetto di ricordare che siete qua ospiti ben volentieri ed è un orgoglio avervi qui perché l'ex assessore alle politiche sociali la Lucia Raffin insomma ha promosso sia Revis anche lei diciamo fautrice di organizzare il convegno qui quindi la ringraziamo di aver avuto questa sensibilità e di avervi portato a conoscere magari qualcuno non era entrato magari qualcuno vedrà anche la struttura. Mi è stato chiesto anche una breve introduzione insomma senza rubarvi tanto tempo perché il progetto è stato spiegato benissimo e quindi io ringrazio dall'inizio perché il fatto di poter accogliere e anche dare un sostegno alle persone fragili o chi sta vivendo dei periodi anche di difficoltà persone, famiglie e che possono essere presi in carico un po' da tutta la comunità come è stato presentato ampiamente dalla dottoressa Zandotti è fondamentale perché noi come amministrazioni locali abbiamo un po' di ristrettezza un po' di organico ridotto e non sempre abbiamo insomma la possibilità di far fronte con le nostre risorse quindi anche progetti di più ampio respiro sono senza dubbio graditi allora vi parlo un attimo della struttura che ci ospita così dopo posso passare la parola questa è una fortificazione è nata come una fortificazione a controllo dei guadi sul tagliamento e sul Meduna era una zona strategica e le prime tracce di letteratura di questa struttura sono del 1200 la struttura era abitata dalla famiglia Sbroia Vacca dai nobili Sbroia Vacca che governavano qui anche con il mandamento del patriarcato di Aquileia qui porto un piccolo esempio che si estende di come erano le cose insomma noi abbiamo un duomo a Valvasone che ospita la Sacra Tovaglia la Sacra Tovaglia è un miracolo ecoristico riconosciuto ed è avvenuto a Teglio Veneto nel 1400 a Gruaro praticamente la tovaglia che era sull'altare questo è il racconto sono rimaste delle tracce di particola e quando le signore l'hanno lavata hanno trovato del sangue e la conserviamo noi come mai da Gruaro perché quella volta diciamo era feudo dei conti qua di Valvasone e quindi c'è stato anche poi tutta una serie di diatribe insomma ci siamo guardati un po' così con tutti i cittadini di Gruaro per un po' di anni adesso insomma ci siamo un po' riepacificati però questa è la storia allora la famiglia poi è passata a Ecucagna di Valvasone e questo castello insomma racconta un po' se avrete modo di vederlo quello che è stata l'evoluzione anche economica del territorio perché qua insomma i commerci erano fiorenti anche vista la posizione strategica e il castello ha oltre a bastione principale tre cinte murarie quindi voi vedete delle finestre all'interno della costruzione perché è stato ampliato mano a mano costruendo via via all'esterno delle altre stanze quando ovviamente ce n'erano le necessità e le possibilità è diventato anche un punto di riferimento di pregio del territorio ha ospitato ovviamente pittori, musicisti diventava anche un momento di aggregazione venivano fatti degli spettacoli tanto è vero che su abbiamo il teatrino insomma che chi non l'ha visitato meriterebbe una visita adesso non so se oggi combineremo adesso vediamo magari se riusciamo a fare un piccolo un piccolo un piccolo sopralluogo anche e quindi c'è stato questo sviluppo fino a quando sono stati aspettati anche due pontefici me lo sono segnato scatto che non dico castronerie Gregorio XII e Pio VI poi sempre qui il teatrino è diventato famoso perché è diventato il teatrino dove il teatrino di Napoleone che nel 1797 ha dormito qui in castello queste sono le tracce e quando per la famosa battaglia sul tagliamento insomma in quell'occasione lì abbiamo avuto insomma delle personalità diciamo che poi andando avanti la famiglia è andata un po' in disgrazia e ha ceduto anche a privati la struttura tanto è vero che adesso è a ferro di cavallo c'è il ponte elevatoio è abitata all'interno da due famiglie di due privati negli anni 80 l'amministrazione comunale ha acquistato la parte sinistra entrando dal ponte elevatoio quella diciamo più di pregio dove ci sono tutti gli affreschi del 1400 c'è il teatrino il teatrino giusto che per capire è andata in disgrazia avevano venduto anche il palco del teatrino è stato tutto ristrutturato come tutto il resto del castello sono stati venduti mobili eccetera quindi è rimasta la struttura che è stata recuperata negli anni con anche un grande intervento da parte della regione che ci ha creduto insomma abbiamo investito parecchi denari ma insomma il risultato adesso è importante e come amministrazione abbiamo fatto un altro passo proprio da pochi giorni abbiamo acquistato anche l'ala sulla destra entrando dal ponte elevatoio che è la zona diciamo di servizi della servitù dei nobili con un focolare insomma una bella zona che purtroppo sta andando a deperire e cercheremo di recuperare anche quelle sono strutture che per un privato non è facile tenere in ordine anche perché insomma ci sono tanti vincoli anche dalla sovrintendenza delle belle arti e quindi quello è un po' un problema e niente adesso la struttura può essere utilizzata sia per eventi di privati famiglie dal matrimonio alle comunioni alle cerimonie c'è una cucina può essere fatta a recettività la stiamo sviluppando anche per le aziende per un congresso come può essere questo presentazioni di libri c'è qualche piccolo evento anche di presentazione o di poesie o spettacoli musicali ovviamente non banda e rock ma insomma a tema e questo è lo sviluppo che ci siamo immaginati del castello e niente ecco questa è la struttura che ci ospita dico ancora una parola ringrazio quindi per il progetto e anche la lungimiranza di tutti gli amministratori precedenti che hanno voluto all'interno del PSR anche una parte di agricoltura sociale e che dimostrasse anche la sensibilità del nostro territorio insomma a fasce di popolazione che magari insomma meritano di essere curate con particolare attenzione perché insomma vediamo situazioni di disagio ogni giorno e quindi ringraziamo per questa opportunità che daremo al nostro territorio di crescere come economia e di crescere anche come comunità ecco io mi fermo qua e so che il pomeriggio tutta la giornata siete qui mi permetto dottoressa se mi tieni un attimo io darei un piccolo omaggio ai tre relatori che mi sono permesso di portare un piccolo pubblicazione facciamo accomodare vi facciamo accomodare intanto come relatori faccio presentare da Elisa i tre relatori che così si grazie buongiorno a tutti allora beh arriva avanti dottor Bozzato prego che è un pedagogista esperto in DSA dislasia e disfrasia e presidente di Uniped Unione Nazionale di Pedagogisti quindi oggi non poteva mancare se vuoi già accomodarti Alessandro gli do dal tu semplicemente per confidenza per conoscenza quindi ci sembra giusto rispetto all'argomento di oggi che prospettive pedagogiche avere uno dei più grandi pedagogisti che abbiamo oggi in Italia mi permetto di dire anche solo questo prospettive pedagogiche perché poi sicuramente lui mi corloggerà però la pedagogia fa parte della formazione dell'essere umano in quanto tale c'è tutto il suo essere e tutti qui noi siamo che lavoriamo sulla persona quindi non solo operatori sociali ci sono anche aziende agricole presenti questo ci fa molto piacere perché l'impegno che ci mettono a contatto con le persone col territorio con tutta la comunità non può che passare per quello che facciamo tutto oggi diciamo di cui parleremo relatore principale abbiamo l'onore di avere Afonso Pescale uno dei massimi esperti in Italia di agricoltura sociale che arriva da Roma è un formatore ricercatore primo promotore e primo presidente della rete fattorie sociali nazionali è stato impegnato per anni anche in organizzazioni che riguardano l'agricoltura è presidente dell'Accademia Rurale vi perdoni Alfonso il nome Accademia della Ruralità ok scusate senza occhiali non ci vedo non le ricordo tutte le mie memorie perché è un curriculum estremo vi dico solo che dieci anni fa quando io mi sono innamorata dell'agricoltura sociale grazie Alberto Grizzo la prima cosa che mi ha detto Grizzo è rivolgiti a Pascale perché lui chi può dirtene più di tutti quindi è un onore per noi averlo qui oggi il terzo relatore è Stefano Montello dottor Montello musicista scrittore e agricoltore che ci presenterà un po' una prospettiva unendo tutto quello che ci racconterà Pascale dal punto di vista sociale pedagogico per l'agricoltura sociale tutto quello che ci racconterà al bozzato per quello che riguarda le prospettive pedagogiche del lavoro e dell'inclusione sociale Stefano Montello le mette in pratica tutti i giorni quindi ci può dare molta teoria e filosofia di cui è veramente abile ma soprattutto ce le può raccontare in pratica e darci un esempio e uno stimolo per tutti noi grazie grazie mille allora dico solo questa è la prima pubblicazione noi siamo un comune che è nato dalla fusione di Valvasone Arzane nel 2015 e questa è la prima pubblicazione che abbiamo fatto fotografica insomma abbastanza per farvi ingolosire insomma se non conoscete il territorio di tutto il comune e quindi niente avevamo piacere di lasciarvi un pensiero tutto qua e buon lavoro a tutti e buona giornata lascio adesso la parola al vicepresidente dell'ambito sì grazie belli numerosi grazie perché non mi uccido no volevo dire come vicepresidente dell'ambito che la storia dell'ambito del San Vittese è fortunatamente molto molto interessante parte da molto lontano e possiamo dire siamo stati pionieri a suo tempo di questa com'è? sì ma non solo dell'agricoltura sociale anche del fare squadra per trattare tutti i temi sociali siamo partiti anche da molto tempo con l'agricoltura sociale io ricordo ancora quando si gestivano i problemi singolarmente c'era il problema di tenere questi bambini e si creava la struttura dove tenere 24 ore su 24 i bambini che avevano problemi oppure le persone che poi io devo dirlo insomma la mia esperienza ho incontrato ho avuto modo di incontrare il dottor Grizzo con le sue idee straordinarie e mi ha fatto pensare molto il fatto che effettivamente noi siamo fatti siamo persone fatti da moltissimi lati diversi e non è che siamo fatti solo per mangiare o per andare a giocare a pallone noi dobbiamo vedere la nostra esistenza un pochettino a 360 gradi ma non soltanto la nostra anche delle persone che hanno problemi ma poi possiamo anche pensare al fatto che siamo una società e quindi proviamo a pensare a 360 gradi anche alla società quindi ci sono le persone che hanno problemi ci sono le persone normali e c'è la necessità anche di andare avanti e di sviluppare la società e quindi questo intervento questa occasione dell'agricoltura sociale che si inserisce all'interno appunto del piano di sviluppo rurale che è un piano di sviluppo rurale però insomma del territorio della società ti dà l'idea proprio della necessità di vedere i problemi delle persone dell'uomo della società a 360 gradi solo in questa maniera secondo me si riesce a trovare delle soluzioni e lo stiamo trovando sì perché effettivamente da quando mi ricordo io un po' di 15-20 anni fa come si affrontavano i problemi ad ora sono stati fatti passi da gigante sono state trovate soluzioni a problemi dato servizi a molte più persone nel caso della fragilità si è riusciti a trovare soluzioni per molte più persone rispetto a quelle che erano prima ma soluzioni anche molto più mirate molto più che riescono a risolvere i problemi non soltanto a contenerli i problemi per cui questa iniziativa di agricoltura sociale la vedo molto bene all'interno di questo anche perché poi soltanto seguendo cercando di risolvere i problemi delle persone che hanno problemi cioè noi stiamo affrontando questo le soluzioni partendo da quello che ci dice l'articolo 1 della Costituzione no che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro il lavoro nobilita l'uomo il lavoro ecco l'agricoltura sociale è innanzitutto far lavorare le persone far lavorare le persone vuol dire appunto nobilitare le persone ma non soltanto anche fargli proprio acquisire manualità io ho fatto il contadino fino a quando anche dopo essere andato a scuola per un bel po' di anni e l'agricoltura è un bel lavorare perché oltre che usare la testa il cervello appunto le mani poi vivi in mezzo all'ambiente ed è un modo di lavorare molto molto interessante e secondo me è molto curativo molto terapeutico diciamo nel caso delle persone ma è anche terapeutico se vogliamo parlarla proprio così dirla così anche per tutte quelle aziende che possono trovare una soluzione anche a dei problemi semplicemente di gestione delle proprie risorse vogliono applicarsi per dare dei servizi ulteriori oltre che seminare mais che ormai il mais non si semina più visto che non c'è neanche la pioggia quindi trovare una soluzione per un qualcosina di diverso e anche per sviluppare il territorio poi una cosa mi raccomando quando si fa agricoltura sociale io ce l'ho un po' con i contadini perché si dice che l'agricoltura è una come si dice una risorsa molto importante per la gestione per lo sviluppo del territorio dell'ambiente equilibrato eccetera ecco se voi vedete le fotografie da google di questi territori da un po' di anni a sta parte come è cambiato il territorio prima si vedevano degli alberi di qua di là fossati adesso si vede una monocultura di Prosecco ecco allora questo per dire che l'agricoltura deve essere sociale deve cercare anche sì per l'amor di Dio di contemperare un po' gli interessi anche delle singole aziende agricole ma anche del territorio allora l'agricoltura deve un pochettino anche reinventarsi proprio per rientrare un pochino anche nella tutela dell'ambiente io ringrazio i relatori che sicuramente starò ad ascoltare per un po' di tempo e basta e ringrazio anche voi per la vostra buona volontà di essere qui perché sicuramente avete intenzione di sviluppare questo argomento a benessere di tutta la nostra società grazie buongiorno porto il saluto dell'amministrazione regionale sicuramente ben volentieri ma sono qua gioco in casa e quindi non vorrei dire tante cose che magari sono poco attinenti sono contento che il progetto vada avanti perché l'abbiamo seguito fin dall'inizio e devo dire che il progetto ha avuto quello spin off che ha permesso di avere anche il finanziamento dei 3 milioni di euro proprio per il fatto che c'è stato questo inserimento della progettualità legata a quello che è lo sviluppo in termini anche sociali dell'agricoltura personalmente vorrei ascoltare più i relatori che sentire le mie parole quindi non posso che sostenere un aspetto dal punto di vista di quello che è la faraginosità poi dello sviluppo del piano stesso perché purtroppo c'è da dire che e su questo mi auguro sono consigliere giornale da alcuni giorni di poter trovare delle modalità per rendere molto più fruibile queste risorse molto più snelle perché questo poi è il vero tema noi abbiamo interventi ancora questo è il PSR 2014-2020 siamo nel 2023 e molte risorse come piace tanti grandi dire non sono ancora state messe a terra ecco allora da questo punto di vista qualcosa sicuramente deve essere cambiato cercherò di capire di chi è colpa intanto ma sicuramente intanto ringrazio chi è riuscito in queste mille difficoltà comunque a fare qualcosa di positivo e anche un convegno come quello di oggi insomma ecco mi interessa di più sentire i relatori che le mie parole io vi ringrazio purtroppo avevo già un impegno preso di tipo lavorativo perché sto continuando anche a lavorare alle 11 quindi mi assenterò però insomma se vedo poi che riesco a rubare ancora un quarto d'ora almeno qualcuno di voi vorrei sentire più che le mie parole grazie e buon convegno e buon lavoro sì intanto grazie anche agli amministratori perché poi è importante col supporto che può essere dato e che può consolidare ma soprattutto anche in una fase di come dire di proseguimento del progetto e anche di sostegno del progetto nel suo ampliamento due cose veloci rispetto al progetto è una situazione attuale perché anche noi vogliamo ascoltare i relatori che è questa noi siamo partiti nel 2021 con il finanziamento del PSR con l'individuazione di due operatori di agricoltura sociale che sono appunto Elisa Nardini che prima non ha presentato ma che ha fatto la presentazione dei relatori e di Federico Berti qua presente che sono i due relatori che hanno una formazione ed educazione sociale giusto e che hanno svolto in questo periodo in questo periodo un'attività di promozione della rete oltre che di riferimento per il centro di documentazione velocemente il percorso fatto è stato quello di ampliare un po' la rete delle aziende agricole e delle cooperative sociali per cui abbiamo fatto un lavoro di ricognizione per ogni azienda agricola quindi una trentina di soggetti che sono stati ascoltati direttamente dai due operatori in riferimento a quelle che potevano essere le criticità le aspettative i bisogni che loro intravedevano e da questo abbiamo fatto un percorso con diversi incontri questo è il quinto incontro ed è l'incontro diciamo più aperto come dire alla comunità mentre prima abbiamo fatto degli incontri più legati agli attori del territorio proprio per promuovere questa rete e per implementarla e per costruirla da questo sono previsti appunto otto incontri eventi che contemplano il coinvolgimento degli attori locali e nel contempo abbiamo attivato dieci pillole così le abbiamo chiamate fruibili tramite webinar attraverso un youtube del comune di San Vito al Tagliamento che sono dieci ne abbiamo fatte già sette proprio su informazioni legate all'agricoltura sociale e diversi aspetti dell'agricoltura sociale in riferimento a questo come dire le esperienze portate ci sono state interessanti e significative ma anche hanno aperto tutta una serie di riflessioni per quanto riguarda l'ambiente l'ecologia e le tematiche ci portano tutta una serie di riflessioni che qui magari in parte potremmo anche affrontare passo in velocità ai ringraziamenti perché ci sembra importante nel senso che questo è un lavoro fatto di tante persone e la possibilità che questo lavoro riesca è solo se le persone si mettono insieme e riescono a lavorare a condividere quelli che sono gli interessi di tutti e della comunità ecco per cui ci sembra importante chiaramente sperando di non aver dimenticato nessuno il comune di Valvasone Arzene che oggi ci ospita in questo bellissimo castello e poi l'agenzia formativa Soform che è l'agenzia incaricata per tutta la parte organizzativa e logistica e che ha anche organizzato l'evento stesso e ai due operatori dell'agricoltura sociale che sono Elisa Narding e Federico Berti per la loro passione e per quanto ci mettono per implementare tutto il percorso che abbiamo avviato al dottore Alberto Grizzo perché ha dato l'input all'avvio del progetto di agricoltura sociale e abbiamo presente la visione che lui che lui ci ha passato alla cooperativa il piccolo principe che nel 2008 si è prodigata rispetto a una responsabilità che si è presa nel farsi carico di questo progetto innovativo a rete che ha visto le altre cooperative sociali per cui anche la cooperativa Futura il Granello e l'associazione La Luna che fanno parte in rete le aziende agricole che operano in rete in questo momento e anche la Rasa che è la rete degli agricoltori solidali giusto attivi nel territorio le fattorie sociali didattiche qui vedo Tina ma anche il ponte è presente nella rete la Conf Cooperativa che è partner di questo progetto e che ha favorito anche diciamo l'incontro tra il mondo agricolo e il mondo sociale l'Istituto Agrario di Spilimbergo gli enti formativi oltre a so forma anche il CEFA l'azienda sanitaria che ha preso l'eredità poi per quanto riguarda la rete delle fattorie sociali e poi ringrazio alla fine anche Tobianese e Lucia Vancini che sono poi due persone del territorio due operatori del territorio che seguiranno poi insieme ai nostri operatori i due workshop ecco questo grazie e intanto buon lavoro a tutti scusate due dettagli tecnici giusto per iniziare avremo in mattinata la presentazione dei relatori è previsto un coffee break chiedo l'aiuto al dottor Dubolino presidente Entri di supporto a sto punto, su che ora ci diamo la prima pausa? 11.30 è una pausa, così mettiamo già la lieta parte. I relatori non si potranno fermare nel pomeriggio, quindi una chiusura verso mezzogiorno e mezzo della parte loro. Quindi se avete da raccogliere delle domande le facciamo in mattinata tra mezzogiorno e mezzo e l'una, perché poi ovviamente uno rientra a Roma e gli altri due in servizio. Uno a Venezia, scusatemi, e uno nel Friulic perché giochi in casa. Quindi raccogliamo il tutto la mattina. Andremo a mangiare, se poi ci danno delle indicazioni sul dove qui vicino ci sono dei locali aperti. Ci ritroviamo alle due per i workshop, dove vi accompagneremo sopra e ci dividiamo in due sale. Uno per la pratica lavorativa e uno per l'inclusione sociale, che sembrano paralleli ma si interseccano perché partiamo sempre dai diritti delle persone che sono prioritari. Ci ritroviamo qui poi verso le 16 e 15, 16 e 30 al massimo, considerando le varie pause, per un ritorno in platea di quello che è emerso nei workshop. Adesso diamo avvia con Fosse Pascale, con nuove ruralità, una visione pedagogica ed educativa dell'agricoltura sociale. Grazie. Bene, grazie. Il tema che mi avete affidato è un tema complicato, quindi non so se riuscirò a darvi delle... così come voi magari vi aspettate, ecco, alcune indicazioni e alcune riflessioni. Perché delineare una visione educativa o pedagogica dell'agricoltura sociale significa preliminarmente porsi una domanda. E cioè, cosa significa oggi concretamente ruralità? E cosa significa oggi concretamente urbanità? Che è l'altro termine che fa Pantan con ruralità. E innanzitutto dobbiamo avere chiaro il contesto in cui questa riflessione noi vogliamo fare. Siamo nell'era della globalizzazione, siamo nell'era dei cambiamenti climatici, della rivoluzione digitale, dell'intelligenza artificiale. Siamo nell'era del declino demografico dell'Occidente e soprattutto di un paese come l'Italia. E nello stesso tempo siamo alle prese con un fenomeno come quello delle migrazioni e soprattutto con l'intensificazione dei flussi che arrivano dall'Africa verso l'Unione Europea, verso l'Europa. Siamo nell'era in cui è in atto uno scontro planetario tra autocrazia e democrazia. E non è un tema così giusto che lo mettiamo. Perché siamo nell'era delle interdipendenze, dove qualsiasi fenomeno interferisce con gli altri fenomeni. Ed è in tale contesto che nel nostro paese il fenomeno delle ruralità assume o può assumere connotati inediti e inaspettati. Innanzitutto va detto immediatamente, preliminarmente, che sono scarse le somiglianze di queste nuove ruralità con la ruralità del passato, che era quella della miseria e della retratezza. Il termine è lo stesso, ma stiamo parlando di cose diverse. Anche l'urbanità odierna ha poco a che vedere con l'urbanità dei secoli scorsi. Sono maturate trasversalità nelle aree urbane e in quelle rurali. Sono intervenute profonde trasformazioni all'interno di entrambi questi ambiti. Sono scomparse le antiche contrapposizioni tra città e campagna. Gli elementi che un tempo distinguevano l'urbanità dalla ruralità sono oggi residuali. Siamo invece in presenza di una sorta di continuum urbanizzato che dobbiamo imparare a leggere e a descrivere per sentirlo nostro. Le ruralità odierne sono molteplici. Ecco perché usiamo questo termine, uso questo termine al plurale. Ringrazio Elisa per aver inserito nel titolo appunto le ruralità al plurale. Perché? Perché molteplici sono i paesaggi. E ogni paesaggio è l'esito unico, diverso da tutti gli altri, di un millenario lavoro contadino quotidiano senza soste. Agricoltura e bonifica hanno lo stesso significato. Agricoltura come la bonifica non è altro che il lavoro agricolo per adattare la terra e le acque a forme più civili di convivenza umana. E quindi i nostri paesaggi sono frutto di questo lavorio millenario di adeguamento e adattamento del nostro ambiente per poter vivere meglio di come si viveva prima. e questa connotazione del paesaggio indica che siamo quindi un popolo essenzialmente un popolo di contadini. I nostri progenitori, i nostri antenati, i nostri genitori, i nostri nonni eccetera o erano proprietari di terra o erano lavoratori della terra. E che la nostra società industriale o post-industriale ha una sua consistenza proprio perché poggia su tali radici. Queste nostre umili origini non vanno però fraintese. Il termine umi da cui umile è l'applativo di humus umi significa a terra che indica una particolare familiarità con la terra un contatto diretto con gli elementi naturali mettersi a terra umi l'umiltà delle origini quindi non è servile ma dignitosa naturalmente aristocratica e la cultura mediterranea di cui siamo indrisi è agricoltura nel senso preciso del termine e cioè che la nostra tradizione culturale è seminagione sedimentazione attesa che il seme si maceri nel terreno e dia a tempo debito il suo frutto il Mediterraneo è sendiero che unisce e capacità di sindesi di culture diverse questa è la nostra storia che abbiamo alle spalle vedete agricoltura noi siamo abituati immediatamente a creare ecco l'agricoltura produce il cibo non è così nella storia coltivare in ebraico si dice abad che letteralmente significa servire il significato più profondo di coltivare è servire la terra e la comunità al fine di abitare dignitosamente in un luogo quindi agricoltura non significa produrre cibo anzi questa è l'ultima cosa cioè quando nacque l'agricoltura diecimila anni fa non era perché c'era bisogno di cibo il cibo c'era era abbondante soltanto che bisognava muoversi le comunità erano nomadi perché andavano alla ricerca del cibo si fermarono per restare per piantare finalmente le tende su un unico territorio dove stanziarsi e quindi si insegnarono per trovare il cibo in modo continuativo in quel determinato territorio quindi vedete come il fine non era la produzione di cibo ma era di produrre comunità questa è la missione principale dell'agricoltura l'urbanità e la ruralità del passato sono diventate urbanitudine e ruralitudine cioè eredità preziose delle generazioni di abitanti delle città e delle campagne che ci hanno preceduto eredità depositate nei diversi paesaggi fatte sia di elementi materiali sia di valori culture consapevolezze presenti allo stato latente nel nostro dna collettivo ciascuno di noi consapevolmente o no è fatto anche di urbanitudine o di ruralitudine oppure di entrambe legami superficiali o legami profondi ma in ogni caso legami l'urbanitudine è il legame che si ha con la dimensione urbana quindi è la cultura urbana con i suoi valori è la consapevolezza di aver ricevuto in eredità il grande patrimonio storico architettonico delle nostre città la ruralitudine è il legame che si ha con la dimensione delle campagne rus ruris significa campagna da qui rurale e i suoi paesaggi in tale dimensione vanno considerati anche la cultura i valori di solidarietà di mutuo aiuto che da sempre hanno caratterizzato il mondo rurale l'agricoltura ha svolto da sempre una funzione sociale esiste un intreccio particolare tra la dimensione produttiva agricola la dimensione delle relazioni con le piante e con gli animali e la dimensione familiare e comunitaria e la dimensione comunitaria delle relazioni sociali ed esiste una sterminata letteratura da cui si ricavano due aspetti importanti di cui noi dobbiamo tenere conto il primo è il rapporto particolare che ha il contadino con la terra la terra è stata sempre considerata un bene particolare a differenza di altri beni ecco nelle società che ci hanno preceduto l'idea precisa ecco di questo bene terra era quello di utilizzarla senza mai impoverirlo al punto da pregiudicarne l'uso futuro e che la fruizione dei benefici della terra va ripartita fra tutti per conseguire il fine della giustizia sociale c'è un'espressione tipica del linguaggio nella cultura contadina la terra si stanca a mio paese in Basilicata, in Lucania la terra si stacqua l'idea di stanchezza attiene ad un organismo vivente che i contadini abbiano associato questa condizione anche alla terra per rispettarne il decorso è la prova ecco del senso di responsabilità che da sempre i contadini hanno avuto rispetto a questo bene l'altro aspetto importante è riguarda la miriade di pratiche comunitarie nelle campagne innanzitutto la molteplicità dei riti di ospitalità nei confronti soprattutto degli indigenti e poi il vegliare nelle serate invernali per educarsi reciprocamente alla socialità come scambio intergenerazionale di memoria, saperi valori essenziali per dare un senso alla vita ma prima ancora dell'educazione alla socialità veniva l'educazione etica l'educarsi reciprocamente ad avere una viva coscienza etica non erano informazioni a scopi conoscitivi ma era formazione, rielaborazione di valori criteri di giudizio modelli di pensiero e di vita capacità di gestire la propria libertà e la propria indeterminatezza nasce lì la missione dell'educatore e del pedagogista nasce appunto nelle veglie delle serate invernali nelle campagne dei millenni scorsi dei secoli scorsi i nostri antenati avevano chiara consapevolezza che la propria identità corrispondeva alla propria moralità che sapevano di non essere necessariamente giusti ma erano coscienti che fosse la giustizia a misurare il loro valore avevano chiara l'idea che la sapienza fosse un impasto di virtù e conoscenza come dice Dante nel tempo si sono diffuse diverse pratiche comunitarie lo scampio di mano d'opera tra le famiglie agricole nei momenti di punta del lavoro aziendale ancora oggi il codice civile lo prevede ma è una consuetudine millenaria le esperienze consortili per la bonifica e la difesa idraulica l'idea di vicinato legata ad una reciprocità di diritti e doveri tra le persone che abitano terre o case contigue e alla consuetudine della prestarella o l'aiutarella così si dice in Basilicata ma si dirà magari in altro modo nelle altre regioni i sistemi di regolazione del possesso a partire dagli usi civici delle popolazioni locali su terreni di proprietà collettiva le società di mutuo soccorso le associazioni locali come le chiese di Cettizia le compraternite, i monti frumentari, i monti di pietà guardate sto parlando di istituzioni laiche che non regolate gerarchicamente dalla chiesa anche se sono di ispirazione religiosa le forme cooperativistiche sorte tra i braccianti padani che hanno segnato il movimento cooperativo in Italia come l'unico in Europa ad avere origini agricole alla fine dell'Ottocento ecco soltanto questi esempi per dire quanto fossero estese le reti informali di relazioni intessute dalle comunità locali e questa cultura permeava una società in cui le condizioni di vita erano condizioni misere le epidemie erano frequenti lo sfruttamento segnava i rapporti sociali come è avvenuta la trasformazione ecco come si è passati dall'antica alle nuove ruralità in Italia questo processo si avvia lentamente fin dall'Ottocento quando nell'Alto Milanese in Brianza nel Comasco si espande la pluriattività individuale e familiare nelle zone rurali si insediano anche piccole attività manifatturiere e si allarga spontaneamente la piccola proprietà contadina ma è negli anni 50 del Novecento che il processo ha una forte accelerazione la riforma agraria del 1950 che agisce come un colpo da riete sui vecchi assetti agrari ecco il latifondo subisce il colpo definitivo pieno abbattuto e l'industria si espande per lo più nelle regioni mezzadrivi Veneto, Toscana, Le Marche è un'agricoltura moderna si installa su una proprietà più diffusa della terra nelle pianure meridionali si manifestano i primi effetti delle opere infrastrutturali fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno le pianure del Mezzogiorno erano acquitrini e c'era la malaria nel giro di alcuni anni diventano agricolture fiorenti mentre le aree interne sono lasciate a se stesse ma è il periodo quello degli anni 50 è il tempo dell'imprenditoria illuminata di Olivetti affiangato da sociologi brillanti come Franco Ferrarotti e poeti come Paolo Volponi ci sono gli urbanisti innovativi dell'Ino, l'Istituto Nazionale di Urbanistica che dialogano con economisti sociologi ed educatori c'è Danilo Dolci che in Sicilia promuove percorsi di sviluppo partecipato dai contadini c'è a Portici il centro di economia agraria e di sociologia rurale ci sono Angela Zuccone e Giuliana Benzoni che organizzano colonie estive per bambini denutriti italiani presso famiglie danesi e altri progetti educativi ci sono Guido Calogero e Maria Comandini che formano assistenti sociali c'è l'esperienza di educazione degli adulti in Abruzzo realizzata dal CEPAS con Ponti Unesco sono tutti fermenti che Italo Calvino definisce una inattesa belle époque esperienze pioneristiche isolate ma nel giro di alcuni anni vanificate e poi definitivamente abbandonate ma nonostante questi limiti l'agricoltura si avvia a completare il proprio processo di modernizzazione e già nel 1958 le statistiche l'Istat ecco ci fa vedere come gli occupati agricoli cedono il primato ai lavoratori dell'industria 1958 mentre si delinea tra incertezze e contraddizioni quindi un percorso di sviluppo che succede? succede che tra il 53 e il 57 viene ideato un intervento particolare che è quello dell'industrializzazione forzata calata dall'alto e questa svolta presentata come la panacea di tutti i mali a questa idea si innamorano tutti tutti i partiti e tutti i sindacati ognuno con la propria motivazione perché? perché si ha il grande timore di quello che stava venendo fuori dalle proiezioni delle statistiche del dramma dell'emigrazione di massa verso il triangolo industriale e allora per sconciurare questa prospettiva ecco allora ci si insegna e si trova quest'idea di un'industrializzazione forzata andare nel sud fare le cattedrali del deserto fare questi questi grandi complessi industriali la DC guardava questa cosa come una grande opportunità per potersi rafforzare e mantenere il proprio potere attraverso le assunzioni clientelari e il partito comunista la sinistra che pensava ecco finalmente adesso possiamo costruire la classe operaia anche al sud e quindi ci rafforziamo anche nel sud tutti d'accordo su quest'idea le voci che si levano contro questa proposta sono diverse Olivetti Rossidoria Dolci Ceriani Sebregonti Ardigò ma tali voci sono messe a tacere e nel momento in cui la proposta diviene la grande scelta strategica per il sud ecco si delegittima e si marginalizza un'intera cultura economica sociale politica viene in sostanza scartata l'idea di articolare l'intervento pubblico attraverso una maturazione guidata dalla ricerca una maturazione guidata dalla crescita dei processi educativi e formativi i sostenitori dell'industrializzazione forzata dall'alto fanno leva sull'emotività ecco noi dobbiamo bloccare l'esodo dobbiamo lasciare le persone lì dove stanno e quindi dobbiamo creare immediatamente dei posti di lavoro ma non spiegano una cosa importante che spiegava invece Mario Rossidoria che l'esodo rurale è un processo liberatore la parola esodo nella Bibbia non ha una connotazione negativa è associata a liberazione dalla schiavitù d'Egitto questo è l'esodo è liberarsi l'esodo rurale avrebbe fatto crollare come poi è successo l'organizzazione tradizionale dell'agricoltura è obbligato a porre in termini completamente nuovi i problemi agricoli naturalmente doveva essere un esodo accompagnato da politiche territoriali che avrebbe indotto spontaneamente un controesodo urbano da sostenere e accelerare per raggiungere un riequilibrio ma sarebbe stato necessario però salvaguardare la cultura agricola e rurale ecco queste scelte hanno conseguenze catastrofiche nell'impegno dei governi sui problemi dell'agricoltura e c'è un effetto domino che coinvolge tutte le campagne italiane non soltanto in mezzogiorno ma tutte le regioni italiane da quel momento infatti si attenua questa idea di industrializzare in quel modo l'Italia fa pensare che quella era l'unica strada che l'agricoltura andava quindi abbandonata e quindi nel giro di un anno o due cosa succede? Succede che a Stresa dopo l'istituzione del mercato comune europeo nel 1957 la firma dei trattati a Stresa si fa la conferenza sull'agricoltura i governi italiani dell'epoca non si impegnano più perché dice l'agricoltura è un settore residuale dobbiamo soltanto puntare all'industria e l'altro fatto gravissimo è che si riduce sempre più il sostegno all'istruzione agraria alle attività di ricerca e sperimentazione a quelle divulgative la gran parte dei tecnici che escono dalle scuole e dalle facoltà di agraria già nel 1959-60 sono dati che si possono andare a verificare ecco la maggior parte di questi ragazzi che escono dalle scuole di agricoltura sia universitarie sia degli istituti tecnici e assunta in misura maggiore rispetto al passato nelle industrie produttrici di mezzi tecnici mentre prima venivano assunti e venivano utilizzati nella pubblica amministrazione da quel momento diventano invece dipendenti delle industrie produttrici di mezzi tecnici quindi vengono adibiti alle attività di assistenza tecnica e divulgazione agli acquirenti diventano venditori di fertilizzanti e di trattori e così gli agricoltori diventano destinatari passivi di tecnologia meccanica e chimica senza più il filtro di strutture pubbliche quello che vi ho raccontato è importante perché ci fa scorgere qui la faglia ecologica che si creò durante la fase di modernizzazione dell'agricoltura la faglia era la frattura nell'osmosi che si era realizzata tra la cultura tecnico-agronomica ed economica agraria e la sapienza esperienziale dei contadini un osmosi che si era strutturata nella seconda metà dell'ottocento in una efficiente organizzazione pubblica della conoscenza agricola grazie la rottura cognitiva ebbe un impatto sociale ed ecologico devastante travolse anche le forme di collaborazione tra tecnici ingegneri ed economisti agrari da una parte ed educatori e operatori sociali dall'altra ecco noi dobbiamo andare a studiare gli educatori allo sviluppo tra anni 50 e anni 60 e così capiamo il ruolo che essi devono oggi svolgere nello sviluppo rurale l'epilogo di questa storia è noto gli addetti agricoli erano ancora 8 milioni nel 1951 scendono a meno di 5 milioni dopo 10 anni tra i 51 e i 71 le campagne perdono 4,4 milioni di agricoltori ma guadagnano 1 milione e 9 di operai impiegati e artigiani c'è un travaso all'interno stesso delle aree rurali nel sud l'esodo è imponente l'industrializzazione forzata dall'alto si rivela un fallimento le fabbriche nel giro di pochi anni chiudono si abbiano interventi assistenziali che ancora continuano tra i 55 e i 70 sono 3 milioni le persone che spostano la residenza dal sud in un comune del nord l'errore fu l'individuazione di un percorso di sviluppo slegato dal territorio e dall'agricoltura e soprattutto non pensato come autoapprendimento collettivo guidato da educatori e pedagogisti si volle combattere in modo folle contro un'idea e un metodo l'idea era che la cultura condadina anziché un retaggio del passato da gettare all'ortiche costituisce un elemento da studiare con discernimento questa era la grande idea di chi pensava allo sviluppo agli inizi degli anni 50 in termini corretti e il metodo era che l'inchiesta sociologica partecipata è premessa ineludibile della programmazione altrimenti su che si fonda la funzione dell'educatore l'autoapprendimento collettivo perché perché il capitale umano il valore del capitano umano è fatto essenzialmente di cultura tramandata e in questo quadro fortemente contraddittorio che l'Italia da paese prevalentemente agricolo diventa paese prevalentemente industriale una delle prime potenze nel mondo e c'è un benessere ed è un benessere che forse Homo sapiens non aveva mai sperimentato in passato e la spinta a quel salto è in ogni caso avvenuto spontaneamente dalla tempra contadina degli italiani naturalmente senza un'intelligenza collettiva che accompagnasse quel processo ma si sono comunque gli italiani affidati sulle proprie doti di coraggio e tenacia sulla propria attitudine a mettersi in gioco rischiare e guardare al futuro con ragionevoli speranze la modernizzazione è frutto del protagonismo di tante persone e si è consolidata ecco questo sì con un intervento pubblico milato con la costruzione di un welfare simile a quello di altri paesi europei quindi da un processo economico spontaneo ha fatto poi di accompagnamento un welfare che è stato costruito diciamo da parte del pubblico come l'altra stampella di questo sviluppo il benessere raggiunto dagli italiani si accompagna tuttavia con un basso livello di istruzione con un basso livello di coscienza storica un basso livello di educazione un basso livello di civilizzazione e l'elemento più preoccupante a mio avviso la perdita di consapevolezza dello scambio intergenerazionale cioè della funzione educativa privi di coscienza storica non siamo stati più in grado di apprezzare i tesori e i giacimenti di cui siamo eredi beni che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere a qualcuno visto che non ce li possiamo portare con noi nella tomba come i faraoni e però non abbiamo più pensato a chi il connubio di benessere e scarsa civilizzazione ha prodotto nel tempo un senso di stanchezza nelle nostre società un atteggiamento generalizzato di chiusura e di rifiuto una reazione spontanea al cambiamento non solo perché esso è troppo veloce per una popolazione invecchiata ma anche perché esso minaccia i vantaggi acquisiti il benessere che ci è venuto in ogni caso in quel passaggio un'idea sbagliata di sviluppo ha dunque comportato danni rilevantissimi si arriva così agli anni settanta quando si tenta di riproporre in termini corretti i problemi dello sviluppo cosa avviene negli anni settanta vado veloce nelle campagne cominciano ad attenzarsi le prime forme di resistenza a modelli erosibili capitale umano e risorse naturali incomincia quel controesodo dalle città alle campagne che Rossidori aveva già previsto negli anni cinquanta e che avviene comunque però avviene spontaneamente lentamente si avvia negli anni settanta ed è un processo che ancora continua le nuove forme di conduzione agricola vedono gli aspetti irrinunciabili della condizione urbana integrarsi con le opportunità dei territori rurali anche i figli dei contadini che tornano dalle università sperimentano modalità di fare agricoltura diverse da quelle che avevano visto protagonisti i loro genitori e questi nuovi agricoltori istruiti dialogano con i giovani di provenienza urbana si sperimentano le prime esperienze appunto negli anni settanta di cooperative giovanili che occupano territori terreni di proprietà pubblica e cominciano ad avviare le prime esperienze di nuova agricoltura e in questo permendo incrociano altri movimenti ci sono movimenti per i diritti civili per rinnovare i servizi sociosanitari chiudono i manicomici e la legge basaglia e quindi ci sono le leggi le prime esperienze per fronteggiare la tossicodipendenza la condizione carceraria si incrociano questi movimenti e nascono le prime cooperative agricole con la presenza di persone con disabilità psichica ex tossicodipendenti ex detenuti siamo alla fine degli anni settanta inizi degli anni ottanta ma anche questa vicenda viene sottovalutata e considerata come una moda passeggera le ragioni sono tante ma essenzialmente è che la società italiana la cultura prevalente in Italia non comprende che stava avvenendo questo passaggio da una ruralità di miseria a tante ruralità di benessere e che queste si modulavano in base alla capacità di recuperare criticamente la cultura contadina e di integrarla con le nuove tecnologie e con la modernità il numero di esperienze positive che in questi decenni si sono sviluppate è un numero molto esiguo ancora oggi manca una visione una chiara visione dello sviluppo anche se si sono fatti passi notevoli in tale direzione lo sviluppo rurale è diventata una delle politiche importanti dell'Unione europea ma se andiamo però a vedere la politica agricola comune la PAC è ancora per gran parte delle risorse sono risorse destinate a interventi assistenziali come il sostegno al reddito non va allo sviluppo non va allo sviluppo rurale nel 2015 viene approvata la legge 141 sull'agricoltura sociale ma dopo tanti anni siamo nel 2023 ancora non ci sono le linee guida nazionali per orientare le attività delle regioni e degli operatori ecco proviamo a questo punto per finire dopo questa lunga carrellata ecco poniamoci una domanda oggi quale visione delle ruralità occorre occorre per gestire in modo razionale processi che si sono aperti e che ancora non vediamo nella loro effettiva dimensione il benessere privo di civilizzazione di coscienza storica di dove veniamo ha avuto un esito innegabile ci siamo goduti il benessere ma non ci siamo preoccupati di chiederci a chi trasferire il patrimonio culturale avuto in eredità dai nostri antenati l'ultima nota dell'istat dell'8 aprile avverte che il tasso di nascita in italia è più basso dal 1861 e che gli italiani saranno 11 milioni in meno nel 2070 cifra che secondo l'ONU sarebbe molto ottimistica perché è basata sull'ipotesi che il tasso di natalità per donna resti l'1,5% l'ONU perciò prevede che nel 2070 saremo circa 44 milioni perdendone 15 milioni l'effetto del calo drastico delle nascite combinato con l'aumento della vita media attesa sta facendo invecchiare pesantemente la nostra popolazione l'età media degli italiani è oggi di 48 anni la più alta dei 27 paesi dell'UE attorno al 2050 la fascia di età prevalente sarà tra i 60 e i 65 anni come non esiste autocoscienza storica del paese non esiste neanche la coscienza acuta e allarmata di questo livello della sfida a chi trasmettere il paese a chi lasceremo dunque i giacimenti della nostra storia civile e culturale a chi affideremo il paesaggio a chi affideremo la nostra lingua una risposta possibile c'è che sono gli immigrati si stanno rovesciando dal vaso troppo pieno dell'Africa in questo troppo vuoto dell'Europa si stanno liberando l'esodo liberazione dall'Egitto ma ci vogliono però delle condizioni di base la prima è una condizione culturale prendere atto che i movimenti migratori sono un fenomeno strutturale da governare non sono emergenze la seconda è una condizione politica e operativa occorre integrare in profondità gli immigrati trattare i loro figli come i nostri attraverso l'educazione l'istruzione e il lavoro l'agricoltura sociale può costituire un valido strumento per contribuire ad affrontare la demografia e gestire una politica di integrazione degli immigrati ma sempre se abbiamo coscienza che appunto l'agricoltura non è un mero settore produttivo che l'agricoltura è un ambito di vita e quindi la sua funzione primordiale è governare generare beni relazionali e beni comunitari si tratta di ricostruire le comunità di rivitalizzare le are interne con progetti di trasferimento della ruralitudine ai nostri bambini e ai figli degli immigrati in tali progetti vanno organizzati anche i servizi agli anziani che diventeranno sempre più numerosi nei prossimi anni va progettato quindi lo scambio intergenerazionale come asse educativo pedagogico delle fattorie sociali cioè percorsi di autoapprentimento collettivo guidati da una leva di educatori e pedagogisti da formare a questo scopo la cultura mediterranea essenzialmente contadina può innescare questo processo e gli immigrati vengono dall'Africa vengono dall'altra sponda del Mediterraneo è una cultura millenaria che può riprendere vitalità e ricostruire una cosa nuova il pediatra e psicanalista inglese Donald Winnicott in gioco in realtà video 1974 scrive che la società ha bisogno che si esprimano in pienezza sia gli stati di adolescenza che la saggezza degli anziani e che queste due condizioni diverse della vita devono necessariamente dialogare in un contesto di rispetto reciproco di reciproco arricchimento come base della nostra libertà solo così potremo superare questo senso di stanchezza e abbandonare gli atteggiamenti di rifiuto e di chiusura al cambiamento mi auguro che le ruralità del futuro siano i contesti entro cui questo dialogo intergenerazionale intercontinentale o interetnico come vogliamo chiamarlo possa dispiegarsi grazie io non ho alcuna alcuna cultura legata alla ruralità io ascolto mi piace sentire in realtà non ho neanche alcuna cultura legata all'utilizzo degli spazi del castello per cui io quando entro vedo queste scione non so come si chiamano in italiano questi anelli attaccati in alto e immagino che servissero a qualcosa posso ipotizzare ma immagino facendo passare comunque un bastone perché uno per salame sarebbe molto poco esattamente quindi in realtà ogni cosa serve a qualcosa e io ho guardato poi chissà perché era fatto così ho ascoltato con tanta attenzione quello che diceva era anche vicino a me per cui mi era più facile perché voi ci avete fatto caso quando si ascolta qualcuno che ti parla vicino lo ascolti più facilmente non è un mistero però ogni tanto è anche bello ricordarcelo io quando sono arrivato mi presento Alessandro Bozzato Unione Italiana Pedagogisti siamo fra gli sponsor sponsor abbastanza è stato molto leggero come impegno nel senso che abbiamo solo sponsorizzato con la mia presenza fondamentalmente quindi non abbiamo contribuito in maniera particolarmente né onerosa né difficoltosa non abbiamo contribuito a organizzare Unione Italiana Pedagogisti è una delle associazioni nazionali dei pedagogisti di cui non vi parlo io sono attualmente il presidente ma siamo in una fase di transito perché il 6 maggio del 2023 cioè sabato ci sarà il rinnovo del consiglio nazionale quindi ci sarà un nuovo consiglio nazionale ci sarà un nuovo presidente oppure sarò di nuovo io questo è un po' da vedere perché questi sono gli impegni sapete esistono queste associazioni nazionali in seguito alla legge 4 per cui sono previste per le professioni non ordinistiche di avere una rappresentazione scusate una cosa molto noiosa io lo so è che ogni tanto mi trovo a dover spiegare cosa sono i pedagogisti perché pur vedendo che molto spesso viene utilizzata la parola pedagogico educativo eccetera altrettanto spesso ci sono anche delle idee un po' varie non voglio dire confuse perché dire confuse sembra quasi di porsi in una situazione di giudizio ci sono delle idee varie variegate e anche molto spesso fantasiose rispetto a quello che è la pedagogia quello che è l'educazione in generale ogni tanto quando si parla di educazione trovo gente che mi spiega da dove deriva il termine educare io dico non è vero non è vero non sappiamo da dove deriva il termine educare ci sono almeno due scuole che sono entrambe molto c'è chi dice che deriva da exducere cioè tirar fuori portare verso e chi dice invece che deriva da edere abbiamo parlato un po' di etimo edere che vuol dire nutrire entrambe le scuole sapete le bucceidibili entrambe le scuole hanno il loro motivo di esistere perché effettivamente c'è chi pensa che l'educazione sia un tirar fuori chi pensa che invece sia un nutrire un prendersi cura nutrire ma anche mettere un po' quella cosa terribile della tabula rasa non so se ve l'hanno insegnato per cui noi abbiamo questi bambini che sono una specie di vaso vuoto che noi dobbiamo riempire che gli si può fare tutto che gli si scrive sopra come se fossero della creta come se fossero della cera su cui si può scrivere qualunque cosa bene questo è uno dei luoghi comuni più diffusi su cui non esiste una sola evidenza scientifica è una delle cose più antiscientifiche che si non è vero semplicemente oddio magari è vero ma non abbiamo nessuna evidenza scientifica che ci dica che questo è vero non è vero che i bambini sono una tabula rasa su cui si può fare tutto quello che si vuole non è vero non è vero se fosse vero se fosse vero probabilmente sarebbe un altro sviluppo scusate mi metto in piedi perché mi sembra di essere più vicini io fra l'altro ho scoperto quando sono arrivato che sono l'unico che ha portato il powerpoint con le slide e questa cosa mi ha messo in una situazione di se sto così mi sentite grazie mi ha messo in una situazione di imbarazzo anche perché è una situazione nuova io insegno da molti anni io ho questa abitudine ho l'abitudine di prepararmi una scaletta da sempre perché è vero che si va un po' col cambio automatico quando si comincia a insegnare si sa qual è l'argomento si legge ci sono anche insegnanti qua fra voi lo so benissimo però io sono abituato a dover gestire il tempo le ore qualche volta ho 60 ore qualche volta ne ho 32 sapete cambia a seconda degli anni addirittura adesso sono a Cremona mi hanno dato un corso dove ho 12 ore 12 ore all'interno del corso di assistenti sanitari poi vi dico meglio che cos'è e di solito io vado con la scaletta me la metto là e mentre insegno mentre parlo cerco di parlare ogni tanto vado con l'occhio alla scaletta continuo a farlo ancora adesso anche dopo tanti anni qualunque incontro faccio mi prepara una scaletta e avevo soprattutto negli ultimi dieci anni avevo gli studenti e le studentesse mi diciano ma prof perché non ci lasci il powerpoint e gli dice perché non lo faccio ma non hai delle slide le chiamano slide qualche volta ignorando da dove deriva questo termine slide comunque sono questi no non le faccio poi c'è stata la tagliola del covid e molti di noi si sono ritrovati improvvisamente a dover fare lezione stando seduti a casa davanti a un computer quindi fare lezione davanti a un computer ha significato anche per me trasferire la mia scaletta in fogli ci sono i programmi appositi che lo fanno che diventano allora diventano la mia scaletta diventano i powerpoint e diventano la mia scaletta quando faccio questo quindi adesso sono tutti contenti i miei studenti adesso che è finito continuo a usarle ne faccio sono diventato brevissimi quando impariamo a fare qualcosa poi cominciamo a farne sempre di più lo fanno anche loro sono contenti perché alla fine della lezione gli do sempre le slide poi ci restano un po' male perché le mie slide sono più o meno come questa sono una scaletta nel senso che io ho dei colleghi che trascrivono i capitoli interi e poi mettono sulla slide parlano qualche volta anche leggono il capitolo per cui ogni tanto mi chiedo ma io sono molto contento che sia finito non so se è finito il covid comunque che sia finita la didattica a distanza perché questa esperienza di due anni se c'è qualche insegnante qua sa di cosa parlo è stata abbastanza sì da una parte ci ha insegnato delle nuove forme di comunicazione dall'altra però è stata anche abbastanza deprimente deprimente perché nel momento in cui noi abbiamo a che fare con la gente vedete io stando in piedi mi sento più vicino a voi cosa anche abbastanza vera mentre io parlo vi vedo in faccia vedo chi è più interessato vedo chi chi risponde su whatsapp chi prende gli appunti vedo lo sbadiglio vedo chi ha un ascolto assertivo che fa così chi fa la faccia allora cerco man mano di orientare e questa cosa la fate tutti voi questa è una cosa importante voi tutti lo fate voi utilizzate questa funzione cognitiva che è quella che fa sì che come me io utilizzo anche questi mezzi così meccanici tecnologici non ho portato l'orologio ho usato il telefonino per guardare l'ora e per termine i tempi noi abbiamo sempre il senso del tempo il senso dello spazio quello che succede grazie a al funzionamento di quelle che vengono chiamate appunto funzioni cognitive che ci fanno sempre capire perfettamente dove siamo con chi siamo in quanti siamo come stiamo quanto tempo è passato ogni tanto lo faccio con i miei studenti gli dico ma voi non avete neanche idea perché perché io mi occupo di funzioni cognitive non l'ho detto ma è importante voi non avete neanche idea di quante cose voi continuate a percepire quanto poco di quello che percepite è reale comunque tante cose se adesso scoppiasse una bomba cosa che non succede non preoccupare l'ho detto mille volte non è mai scoppiata se adesso scoppiasse una bomba e tutti quanti ah benissimo un po' seppelliti così e e viviamo tutti ci svegliamo fra due giorni in un ospedale e ci chiedono ma cosa stava succedendo ecco voi riuscite a descrivere perfettamente ah io ero seduto in quarta fila e quello seduto vicino a me aveva il maglione giallo quello davanti era in piedi gesticolava c'era uno che sono tutte cose che voi state percependo e che non sapete che le state percependo perché non ne avete bisogno nel momento in cui voi toccate sapete no noi abbiamo gli analizzatori tattili nel momento in cui voi toccate voi state percependo un sacco di cose io adesso ho toccato il telefonino senza neanche guardarlo so benissimo che ha una superficie ruvida è tiepido perché prima l'ho aperto sono tutte cose che considero noi lo sappiamo grazie alle terminazioni nervose ci sono dei neuroni bimodali in questo caso ma non importa senza entrare troppo nello specifico io mi occupo di pedagogia speciale il mio insegnamento è pedagogia speciale pedagogia speciale è la pedagogia MP03 per chi frequenta le sigle sarebbe quella che si occupa dell'inclusione cioè è la pedagogia che si occupa dell'inclusione come la chiamo io per spirito di parte è la parte che ha l'aspetto epistemologico più serio cioè l'aspetto legato a un sostrato scientifico chiamiamolo così è quella che comincia grossomodo con i medici pedagogisti no? I Tars Again Montessori sono nomi che anche se non avete sito nominare comunque ogni tanto li sentite sono quelli che cominciano a occuparsi di tutto quello che è il processo inclusivo inizialmente dedicato alla disabilità ovviamente perché noi sappiamo che la disabilità è una condizione non è uno stato assoluto è una condizione che si rapporta con uno status con un contesto i pedagogisti lo chiamano così contesto lo chiamano anche l'uso delle parole è importante una mia studentessa mi ha chiesto ma tu vai a fare queste cose anche per la gente che non è costretta a venire all'università faccio sì 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 e ti ascoltano qualche volta le ho detto perché io parlo di cose estremamente teoriche perché io sono estremamente a favore della teoria anzi sono fortemente a favore della teoria perché la teoria significa conoscenza specifica rispetto a qualcosa e quindi ha un nesso indissolubile con quella che io chiamo la pratica teoria teoria e pratica non sono staccate sono staccate invece il fare e il saper fare con un titolo come questo prospettive pedagogiche del lavoro è il sogno di qualunque pedagogista che sia un pedagogista di storia della pedagogia che sia un pedagogista di pedagogia generale sociale che sia di pedagogia sperimentale o che sia di pedagogia speciale come me prima nel bellissimo escursus che ha fatto Pascale ha parlato della fine degli anni settanta io mi rifaccio soprattutto dal settecento ottocento in poi però alla fine degli anni settanta ha citato una legge fondamentale per l'inclusione per il processo dell'inclusione che è la legge Basaglia a cui molti dei lavori sociali che adesso esistono devono tanto io mi permetto di aggiungerne un'altra che è sempre una tappa è sempre di quel periodo del setantasette comunque siamo là Basaglia mi pare che sia setantotto setantanove adesso non ricordo setantotto grazie che è la legge Falcucci che non ricordiamo abbastanza anzi qualche volta uno dice Falcucci ma cosa ha fatto la Falcucci cosa ha fatto la Falcucci la Falcucci ha permesso di chiudere quelle cose terribili che erano chiamate le scuole differenziali io mi sono laureato nel secolo scorso per cui quando ho fatto quando sono andato a scuola io non sapevo cosa fosse l'handicap semplicemente non entravano a scuola non c'erano bambini disabili non entravano a scuola i bambini disabili erano chiusi nelle scuole differenziali in generale nel momento qualcuno dice eh si si ha rovinato tutto ma non importa io non voglio entrare su questo voglio solo parlare del fatto che la comunità da che è comunità ha sempre avuto questo compito che è quello di tentare di mediare fra due tensioni contrapposte quella all'inclusione quella all'esclusione talvolta addirittura costruendo delle enclave delle società chiuse che includevano grazie a loro essere esclusive rispetto a quello che stava al di fuori senza voler dire cosa è meglio cosa è peggio diciamo che comunque le società che si sono evolute sono quelle che non hanno utilizzato il sistema dell'esclusione in generale poi ognuno la può leggere come vuole io non sono uno storico io mi interesso di processi cognitivi di funzioni cognitive mi interesso di quello che significa apprendimento di quello che significa educare perché purtroppo educare sono tutti convinti che sappia sono tutti convinti di sapere cosa significa l'abbiamo visto prima è vero sì in effetti è un'azione io educo nel momento in cui faccio qualcosa educo prospettive del lavoro prospettive educative del lavoro ho detto prima il pedagogista va a nozze perché il pedagogista in generale pur essendo la pedagogia una scienza giovanissima come scienza giovanissima è sempre stato un ibrido c'è chi dice che la pedagogia nasce da un ibrido mal riuscito fra filosofia e biologia probabilmente ha ragione io mi rifaccio a un'altra tradizione scientifica che è appunto la tradizione scientifica di cui parlavo prima e che adesso vedremo un po' alla volta mi sono trovato a suo tempo a trovare questa frase poi alla fine dico la fonte perché cerco di fare un discorso molto veloce arrivare a questo a un certo punto in un testo trovo ogni attività lavorativa e dunque di per sé stessa utile quel dunque è noi siamo un po' così no? siamo a favore del lavoro di sintesi ma qualche volta ci tocca anche un po' l'analisi ci ricordiamo sempre analizzare significa isolare ogni elemento ce lo ricordiamo io invito sempre cerchiamo di guardare cosa significano le parole analizzare è isolare ogni elemento l'analisi logica è isolo il soggetto isolo il predicato l'analisi grammaticale isolo l'articolo la sintesi invece quando cerco di tenerli tutti insieme il lavoro educativo è sicuramente un lavoro di sintesi però ogni tanto l'analisi ci sta quindi ogni attività lavorativa è dunque di per sé stessa utile è dunque di per sé stessa utile era all'interno di un testo cosa vuol dire educare oh che brutta questa cosa sentite questa fa parte delle slide il bello delle scalette cos'è che la scaletta resta qua se io vedo che è superato quello che stavo per dire qui invece lo si vede lo stesso diciamo che farò un percorso velocizzato farò un percorso velocizzato per arrivare a parlare di quello che è esperienza e vissuto queste parolacce tipo diacronia del prima e del dopo diacronia è un termine nella diagnosi pedagogica si usa sempre la prospettiva doppia diagnosi pedagogica e come diagnosi pedagogica nella diagnosi pedagogica si usa sempre una doppia prospettiva che è la prospettiva diacronica e sincronica queste parolacce che è giusto dire perché il lavoro di educazione è un lavoro che consiste soprattutto nell'elaborazione di ciò che si vede consiste nella parte empirica si dice che la pedagogia è una disciplina empirico-ermeneutica di solito ho perso i miei studenti quando dico empirico-ermeneutica ma in realtà è molto facile empirico-basato sull'attività sull'esperienza ermeneutico-basato sull'interpretazione di quello che si è fatto quindi si fa e si elabora quello che si fa è normale qualunque azione è basata su ciò che si fa qualunque progresso qualunque apprendimento in realtà noi parliamo di conoscenza è basata sull'elaborazione di quello che si è appreso la diagnosi pedagogica è sempre basata su una prospettiva diacronica e sincronica diacronica attraverso il tempo cioè la storia sincronica com'è in quel momento se io faccio una valutazione a scuola faccio una valutazione che è sincronica vediamo vi do il voto sul test che avete fatto oggi tu oggi hai preso 29 tu oggi hai preso 26 tu hai preso 27 hai alzato la mano? no peccato però la valutazione è sincronica cioè tu oggi sai 27 mi dice poco della persona mi dice di più quella diacronica cioè se io so che lui è arrivato tre mesi fa e non parlava in italiano e oggi prende 27 mi ha un valore quindi io lo giudico anche rispetto al percorso che ha fatto questo sarebbe diacronico il prima il dopo il durante diagnosi attraverso gnosi conoscenza quindi diagnosi significa conoscere attraverso ogni tanto in generale vuol dire solo diacronica del prima e del dopo l'educazione l'educazione si basa sempre sulla relazione sempre e comunque sempre sulla relazione su tutte le relazioni ma in particolare sulla relazione anzi vi dirò di più ogni cosa ogni nostro processo di conoscenza si basa sulla relazione qualunque processo di conoscenza anche per capire qualcosa io devo sapere cosa c'era prima ma anche per vedere qualcosa anche per mettere insieme le cose io devo sapere cosa c'è prima cosa c'è dopo per capire la posizione devo sapere cos'è la destra cos'è la sinistra tutto quello che noi impariamo è in relazione la pedagogia mamma mia vi chiedo scusa vado avanti anche quell'altro è un altro aspetto talmente che salto per cui molto spesso siccome tutti sono convinti di sapere che cos'è l'educazione io cerco di andare a esclusione utilizzo questo sistema e dico che cosa non è perché ogni tanto ho dei gruppi mi chiamano come consulente soprattutto negli asili quelli che adesso si chiamano scuole dell'infanzia ma anche quelli che sono ancora gli asili a fare le consulenze mi chiedono dottore la sberla è educativa questa è una domanda che mi fanno ancora io rispondo rispondo dicendo non c'è una risposta giusta a una domanda sbagliata quindi mi faccio una domanda giusta e posso dare una risposta giusta perché non esiste niente che è educativo di per sé niente è educativo di per sé a meno che non si pensi che educare significa addestrare educatore è un professionista lo è diventato ma in realtà siamo tutti educatori quando entriamo nel campo specifico dell'operatore speciale educatore quello è un professionista che ha una sua precisa conoscenza un sapere educativo e un sapere pedagogico che mette in campo questa si chiama professionalità quindi l'educatore professionale è il professionista che ha un preciso e specifico sapere educativo che mette in campo laddove con i mezzi e con la sua conoscenza laddove questo serve però educatore ha anche una funzione che ha il maestro che ha il parroco che ha l'allenatore di calcio che ha la mamma e il papà che ha che ha qualunque persona fa qualcosa che ha delle conseguenze dal punto di vista del comportamento degli altri noi abbiamo il pedagogista è qualcosa di diverso però siamo là perché il pedagogista pur non essendo un educatore si occupa di educazione comunque si occupa di educazione non entro troppo nello specifico in generale si preoccupa di di stabilire anche quali sono i parametri all'interno dei quali noi possiamo parlare di queste cose e anche invitare a una riflessione a un percorso e anche a capire per esempio a dare la risposta giusta a la sberla è educativa e la risposta giusta è quella che ho detto prima a una domanda sbagliata non si può dare una risposta giusta nel senso che la domanda la sberla è educativa contiene in sé già una richiesta rispetto a qualcosa che viene data per scontata i compagni di strada dell'educatore come dicevo prima sono quelli che ho nominato può essere il parroco può essere la maestra il maestro può essere il personale ata quello che una volta veniva chiamato i bidelli e le bidelle insomma sono tutti compagni di strada io dico sempre che educare quindi cosa non è vado molto veloce non è creare questo grande questo grandissimo veramente luogo comune che dà questa dimensione quasi onnipotente dell'educatore che crea io ti ho fatto io ti distruggo ok questo è molto diffuso il bambino tabula rasa io modello lo faccio diventare quello che è non è vero non dà origine a qualcosa dal nulla guardate una delle più belle definizioni che ho letto di educare l'ho letta ieri in una tesi di una mia che l'ha citata là e diceva educare non è riempire un vaso ma accendere un fuoco bellissimo accendere un fuoco ovviamente cosa significa tu accendi un fuoco a legno alla paglia a qualcosa che sia comunque bruciabile non accendi il fuoco all'acqua non puoi educare dal nulla questa è di dirable questa frase io cito sempre le fonti in generale che non era un educatore non nasce dal nulla è frutto di concatenzazioni di eventi io qua vado veloce perché per me quest'ultima parte questa non nasce dal nulla per me è particolarmente importante è particolarmente importante perché è proprio la base di quello che è educare non devi neanche allevare però perché allora qualche volta c'è anche quest'altra grossa confusione chi è l'educatore è quello che alleva che accudisce allora io ricordo Lambruschini per qualcuno di voi un nome sconosciuto Lambruschini diceva e faceva bene piuttosto che fare bene cercate di non far male e anche questo è giusto nel senso nell'educazione dei bambini piuttosto che essere troppo preoccupati a fare del bene state attenti a non fare del male sono d'accordo perché effettivamente avere a che fare con materiale vivo con materiale vivo significa anche prendersi cura quindi allevare però il grosso equivoco che si può avere fra allevare ed educare alle volte comporta il rischio di dimenticare qual è la finalità dell'uno e qual è la finalità dell'altra se no dice l'ho educato io questo come l'hai educato l'ho allattato l'ho portato sono tutte parti importanti importantissime che creano qualche volta io ti dico sempre tenete presente l'ambivalenza dell'allevamento educare non è modellare come ho detto prima e soprattutto educare non è addestrare perché addestrare significa per esempio quello che si fa avete presente io faccio parte di un'altra generazione ma ai miei tempi si faceva il militare ecco la pedagogia militare è molto chiara ci sono delle finalità precise tutti quanti devono arrivare a fare quella cosa si trova il modo migliore per far sì che tutti quanti facciano quella cosa quindi bisogna fare al minuto 77 passi si addestra all'automatismo di fare questi 5 movimenti per fare questi 5 movimenti carica scarica metti così spara così scegliamo qual è la sequenza migliore la ripetiamo un certo numero di volte ecco noi abbiamo tutti quanti che agli ordini precisi fanno quei movimenti precisi un addestramento perfetto in campo continuiamo a ripetere gli stessi movimenti 4 passi passi la palla sicuramente addestramento va benissimo addirittura qualcuno mi ha detto ma educare è un po' come per un cane sai perché gli fai così e fa così fai così infatti quelli che allevano i cani sono bravisti sono degli educatori perfetti domanda sbagliata risposta sbagliata comunque sono d'accordo d'altra parte c'è tutta una teoria che è quella cognitivo comportamentale a cui in parte aderisco fra l'altro che prevede che azione reazione ne so causale sapete poi Brunner Pavlov sono tutti nomi che se volete poi andate a vedervi così si basavano anche sul fatto del condizionamento ambientale che comporta questo ma non solo io mi occupo di funzioni cognitive l'addestramento è una cosa così importante io faccio vedere a lezione faccio vedere dei pezzi di film faccio vedere per esempio non so se avete mai visto Born Identity è un film americano dove si vede uno che perde la memoria però ricorda perfettamente tutte le cose a cui era stato addestrato a fare parla in francese parla in tedesco carica e scarica un'arma in dieci secondi e tutte queste cose qua nonostante abbia perso completamente la memoria e mi chiedono prof ma è possibile certo che è possibile è possibile proprio perché l'addestramento cioè gli automatismi per usare un termine tecnico vanno a risiedere in una zona delle funzioni cognitive che è altrove non stiamo utilizzando né broca non stiamo utilizzando noi abbiamo tutta una parte di funzioni del neurosviluppo di cui non siamo a conoscenza o meglio siamo a conoscenza ma non sappiamo assolutamente come funziona cioè noi sappiamo per esempio che se qua ci tagliamo facciamo un'infezione e subito partono i nostri anticorpi che vanno a curare l'infezione sapete chi glielo dice noi glielo diciamo è il nostro cervello che glielo dice ve ne rendete conto? ecco questo quando vedete i film che vi dicono noi usiamo solo il 10% del nostro cervello se lo usassimo non è vero noi lo usiamo tutto solo che è usato per fare altre cose non è vero che noi l'unica cosa che abbiamo sono le connessioni che si sviluppano continuamente sapete le neuroconnessioni quelle che passano attraverso il corpo calloso se c'è qualche volta non c'è neanche quello ma il cervello è plastico e va avanti e si e si intesa tutte le nuove connessioni si chiamano sinapsi le conosciamo bene no? e ogni sinapsi crea un percorso e sapete il circolo virtuoso dell'apprendimento si basa proprio su questo cioè si basa sul fatto che più impari e più impari più impari e più impari cioè questo vuol dire quindi che nel momento in cui facciamo qualcosa di inclusivo noi dobbiamo ricordarci che più portiamo avanti qualcuno se qualcuno resta indietro questo vi dice il pedagogista quindi non è più il neurofisiologo adesso è il pedagogista che più andiamo avanti con qualcosa se qualcuno resta indietro sarà maggiore la distanza per raggiungere gli altri perché nel nostro processo di circolo virtuoso di continuare ad avere maggior capacità chi ne ha meno e resta indietro ne avrà sempre non ne avrà sempre meno perché sarebbe una contraddizione però sarà sempre più lontano solo questo vuol dire e qua finisco questo è velocissimo educare non è comunicare ci tengo sempre a dire che non è comunicare qualcuno crede che in realtà una buona educazione sia figlia di una buona comunicazione non è vero non è vero anche perché non abbiamo ancora capito cosa voglia dire comunicare quando qualcuno mi dice si educa di più col fare che col dire io gli dico sì è vero ma non è un non comunicare il fare perché nel momento in cui io vedo qualcuno questo qualcuno sta comunicando con me poi noi dal 96 dal 95 96 adesso mi ricordo grazie all'equipe di Rizzolatti abbiamo scoperto che effettivamente effettivamente noi impariamo vedendo gli altri che fanno perché noi abbiamo dei neuroni che sono preposti a questo che sono nell'area motoria prevalentemente siamo neuroni specchio e noi apprendiamo praticamente tutto imitando guardando gli altri come fanno e noi impariamo facendo è vero sì è vero l'aveva già capito qualcuno adesso abbiamo anche la strumentazione che ci permette di capire che effettivamente questo succede non solo abbiamo anche visto in quali aree succedono queste cose e trovo che sia molto interessante perché non è comunicare perché se no uno pensa e questo non ha preso perché la comunicazione non gli è arrivata bene come se bastasse dire le cose per impararle ho semplificato perdonate la superficialità internet ti dice un sacco di cose quindi impariamo un sacco di cose questa è una delle conseguenze ah questo è un bravo comunicatore quindi è un bravo educatore non è vero semplicemente perché educare non è dire ah lui non ha imparato perché non gli è stato detto bene ah questi qua fumano perché non è stato comunicato bene che fumare fa male è stato comunicato bene sì o no io non conosco nessuno dei fumatori che non sappia che fumare comporta dei dei danni non ne conosco neanche uno gli è stato comunicato bene lo sanno benissimo lo sapevo benissimo anch'io io sono un fumatore in pausa lo dico sempre non sono un ex fumatore io faccio come gli alcolisti per me fumatori sia per tutta la vita anche se si sta nel mio caso fra poco 15 anni senza accendere una sigaretta però io lo so sapevo benissimo fino a 15 anni fa che fumare faceva malissimo però fumavo lo stesso mi era stato comunicato bene è un esempio stupido ma comunque al massimo io dicevo è un appunto che ho aggiunto si vede educare è far comunicare ma non è curare alla fine qui ho avuto una studentessa che mi ha detto ma prof ma perché a me piace il concetto che io mi prendo cura di mi fa piacere stiamo attenti però alla dimensione salvifica di questo io ti curo è chiaro che l'educazione ha a che fare con i processi di cura è assolutamente vero sicuramente ci facciamo carico ci facciamo carico ci proviamo a far carico comunque l'educazione è sempre un processo legato alla relazione anche perché la cura ha sempre a che fare con qualcosa di con qualcosa di disimmetrico e non sempre l'educazione disimmetrica è ovvio che l'educazione è sempre un rapporto fra qualcuno che ha qualcosa e qualcuno che qualcosa lo sta apprendendo però il rapporto disimmetrico o asimmetrico chiamatelo come volete volete è un rapporto che rischia di porre in situazioni che rendono difficile la comunicazione essenziale nell'educazione che è quella reticolare il più possibile orizzontale slogan orientare facilitare e promuovere vogliono dire un sacco di cose e io vado avanti parlando di orientamento che è fondamentale nel rapporto educativo l'orientamento io chiedo sempre voi sapete cosa vuol dire orientamento perché tutti sono convinti di sapere e non si fermano a pensare che cos'è l'orientamento quando è che si ha bisogno di orientamento in che ambiti noi parliamo di orientamento un po' alla volta facciamo perdere il focus group si vede che l'orientamento serve quando si finisce la scuola media quella che adesso si chiama secondaria di primo grado per scegliere dove andare alle superiori quelle che adesso si chiamano secondaria di secondo grado alla fine della secondaria di secondo grado per scegliere l'università alla fine dell'università per scegliere il lavoro oppure anche prima per scegliere il lavoro vostro figlio faceva il notario se eravate figli di contadini facevate contadini non avevate l'orientamento l'orientamento è una cosa di questi anni è adesso che uno sceglie che uno ha questo problema di dover scegliere oh che problema dover scegliere invece che sapere che avevi già tutta quanta la vita assegnata dalla tua famiglia e dalla tua estrazione dal tuo sangue chiamiamo così dalla tua stirpe sono queste parole educare non è neanche formare io credo che chiuderò qua perché finisco il lavoro però cerco di riassumere tutto non è neanche formare non è formare perché formare significa qualcosa di più preciso formare diciamo che l'educazione entra nella formazione ma la formazione che noi tutti usiamo perché abbiamo gli enti di formazione dove si è andato sono andato a fare formazione ah c'ho la formazione obbligatoria ha un significato preciso dal punto di vista dal punto di vista pedagogico ovviamente la pedagogia uno dei campi è proprio quello anche di capire il significato è un processo che è contemporaneamente semplificando sociologico e biologico nella società della semplificazione qualcuno aveva anche provato a fare uno schema che vi che vi propongo questo è uno schema abbastanza condiviso più o meno da tutte le scuole pedagogiche in questo momento dove si dice che la formazione è il risultato del combinato di sviluppo e educazione e qua su questo c'è sempre qualcosa di interessante perché lo sviluppo è a sua volta un combinato di maturazione biologica più l'influenza dell'ambiente maturazione biologica è quella che abbiamo tutti da quando nasciamo a quando moriamo un amico biologo mi ha detto no la maturazione biologica comincia ben prima della nascita e in effetti io ricordo c'è una una ricercatrice friulana bravissima Laila Craighiero si chiama che insegna neurobiologia o neuropsicologia adesso mi ricordo all'università di Ferrara che durante una sua presentazione mi faceva vedere i risultati di un'ecografia di un feto di un feto già con le manine sviluppate quindi abbastanza avanti era a cinque mesi quindi stiamo già parlando di un di un bambino in miniatura e faceva vedere che metteva la mano in bocca si vede sull'ecografia che mette la mano in bocca ecco si era notato che questa forma di vita che si stava sviluppando quindi che non era ancora nata per la legge italiana non è ancora una forma di vita è lì è in embrione appunto metteva il dito in bocca la mano in bocca perché non si capisce il dito la mano è ancora in fase di sviluppo cinque mesi la velocità con cui metteva la mano in bocca era fino a sei volte superiore alla velocità di quando si toccava gli occhi sapete perché? perché faceva male il bambino prima di nascere ha già imparato dall'esperienza ovviamente perché ogni apprendimento viene dall'esperienza io ritorno sul fatto che siamo qua comunque maturazione biologica più influenza l'ambiente perché ci cambia nascere al freddo nascere in un posto dove stiamo sempre all'aperto ci cambia rispetto a nascere in un posto dove siamo sempre al chiuso dove c'è il sole dove c'è l'uomo ci cambia queste due cose lo sviluppo è determinato da un sacco di cose l'educazione è un combinato di educazione diretta e indiretta cioè diretta quello che ti viene comunicato indiretta è tutto quello che ti viene comunicato intorno perché noi siamo sempre prodotti anche dell'ambiente di cui facciamo parte perché noi abbiamo comunque i valori dell'ambiente anche in opposizione ma siamo in opposizione i valori del nostro ambiente sempre e comunque perché se io adesso vedo uno che gira per di qua con in mutandine anche se io posso essere la persona più libera del mondo ci trovo qualcosa di strano se io vado in un posto dove mi dicono ah noi qui mangiamo tutti quanti alle 5 mi sembra come tutti quanti noi siamo influenzati da tantissime cose sempre e comunque ecco allora la formazione è sempre un combinato di quello che è lo sviluppo e l'educazione si continua a formarsi per sempre e io sapete avevo preparato tutta la parte sull'azione educativa approfitto per arrivare qua perché era questo il lavoro noi avevamo una neuroscienziata in gambissima probabilmente il più importante scienziato italiano insieme a Fermi e a qualcun altro che si chiama Maria Montessori che onestamente è sempre stata un po' sottovalutata anche da me quindi è stata sottovalutata anche da chi viene dall'ambiente pedagogico non non soltanto è stata sottovalutata da tutti che era dottoressa lo sapete medico educatrice neuroscienziata che ha scoperto una serie di cose che poi sono state anche riconosciute come corrette è stata candidata per il Nobel sapete no? la Montessori non ha vinto il Nobel ma ha avuto una candidatura per la pace la difficoltà a riconoscerla come scienziata c'è sempre stata comunque è un po' perché in generale tutte le professioni educative tutto quello che è legato all'educazione stenta un pochino è facile riconoscere nell'ambito scientifico in generale e qualche buon motivo ci sarà però diceva diceva questa cosa perché è importante il lavoro perché è importante fare il fare lo sviluppo della mente si compie attraverso il movimento quello sotto era una frase della Montessori dice la mano tocca l'evidenza e la mente scopre il segreto è così è effettivamente così noi apprendiamo quando facciamo empirico ermeneutico noi facciamo apprendiamo poi rielaboriamo facciamo apprendiamo rielaboriamo facciamo apprendiamo rielaboriamo tutte le volte che noi togliamo la possibilità di fare noi non apprendiamo perché dico che è importante l'università perché ormai adesso gli unici posti dove riesco ad avere un rapporto col fare è all'università dove si fa teoria dove si spiegano anche alcune cose dove si spiega ad esempio e si insegna perché il perché delle cose per esempio io ogni tanto chiedo ma secondo voi perché in Italia le vacanze vanno da giugno a ottobre ora non più vanno da fine giugno a settembre perché ho fatto fare una ricerca per vedere se qualcuno riusciva a scoprire per quale motivo in Italia le vacanze si fanno in quel periodo voi lo sapete tutti per cui non serve che ve lo dica però è strettamente legato al discorso che faceva prima il dottor Pasquale direttamente legato al discorso che faceva prima il dottor Pasquale vi ricordate cosa vuol dire primario noi siamo tutti del terziario no? noi siamo il terziario c'è il secondario e c'è il primario cos'è il primario? io lo so che non siamo a scuola ma si può anche partecipare volendo non è che il primario è primario vuol dire la primaria fonte in Italia è l'agricoltura il primario secondario l'industria terziario i servizi così una vecchia però poi si parla di terziario avanzato ma ogni tanto se ci si dimentica da dove vengono le parole da dove vengono anche le consuetudini le abitudini perché si fa la vacanza d'estate perché i bambini non potevano essere privati dell'importante le famiglie non potevano essere private dell'importante apporto lavorativo dei bambini per il raccolto bisognava fare in modo che non fossero occupati a scuola e potessero andare a fare questa cosa io ogni tanto mi trovo mi trovo scusate entro proprio nel dettaglio mi chiedono a che età il bambino deve stare pulito questa è una domanda giusta parliamone pulito vuol dire togliamo il pannolino perché sapete che alla scuola dell'infanzia non si può andare se ha il pannolino scuola ex asilo scuola materna no a tre anni no deve essere autonomo e io vi dico una cosa è normalissimo che sia così mi chiedono a che età il bambino deve essere pulito e io gli chiedo non so parliamone perché sono delle mamme dei papà vorrei dire dei papà per fare correttezza ma purtroppo non è vero sempre le mamme che mi vengono e mi dicono eh vabbè ma non è non è umano tenere il bambino pulito prima dei sei anni che non hanno nessun controllo degli sfinteri beh se questa è un'evoluzione dell'essere umano io non ne ero a conoscenza perché noi abbiamo dei bambini africani ed è vero che controllano lo sfinterio entro l'anno di nascita come fanno o sono superiori o magari effettivamente si può fare qualcosa di educativo no? io lavoro molto con i pediatri i pediatri ogni tanto mi dicono ma ascoltate a me vengono a chiedermi ma perché il bambino piange col buio perché non va questi non sono problemi pediatrici questi sono problemi pedagogici legati allora parlando mi chiedono anche fino a che età bisogna allattare parliamo non c'è un'età adesso io capisco che qua dobbiamo avere sempre le schedine non c'è un'età diciamo che quando comincia a avere i denti magari no eh ma l'OMS mi dico dice che si può allattare fino a 25 anni per me va benissimo se per lei non è un problema l'OMS dice anche poi vedo sempre faccio così che il bambino e l'adolescente dovrebbe al bambino e all'adolescente quindi parliamo fino ai 18 anni ma noi sappiamo che l'adolescente è fino ai 28 dovrebbero essere garantiti da 6 a 8 ore al giorno non alla settimana di attività motoria da 6 a 8 ore ed è importante quanto l'allattamento quindi io chiedo nel momento in cui uno mi dice che l'OMS dice che si può allattare anche fino a 40 anni gli dico a me va bene che seguiate quello che dice l'OMS ma lo seguite in tutto perché noi effettivamente abbiamo una responsabilità in quello che facciamo nel momento in cui lo facciamo io quando parlo di professionalità e responsabilità dico se cos'è responsabilità io sono responsabile quando so che quello che faccio ha una conseguenza ecco allora sei responsabile e anche quello che non fai ha una conseguenza allora sei responsabile da 6 a 8 ore al giorno di attività motoria e d'altra parte se ci pensate non è una cosa così strana anche perché non è così cambiata è vero che antropologicamente sono state le mutazioni cioè noi vediamo il pitecantropo è diverso rispetto a noi la corteccia si è sviluppata tantissimo una volta c'è poco non c'era la zona neocorticale si sviluppa siamo diventati più alti in alcuni casi più bassi siamo diventati misti siamo cambiati ma non così tanto perché che anno siamo nel 2023 ecco se noi andiamo nel 1983 sono 40 anni fa andiamo anche prima andiamo nel 1963 sono 60 anni fa quando non c'era la tv in tutte le case non c'erano molti computer non c'erano grandi telefonini e cose del genere voi provate ad immaginare un bambino un bambino diciamo dai 6 ai 12 anni 6 ai 12 anni va bene quindi che va già a scuola perché uno dice ma come si fa a fare 6-8 ore al giorno di attività motoria vediamo un bambino che ha 6 da 6 a 10 anni a 11 anni che finisce la scuola alle 12 e mezzo arriva a casa secondo voi un bambino nel 1963 che arrivava a casa a luna il tempo di andare perché comunque si andava a piedi bene o male che sia non lo so si andava a piedi io vado ancora a piedi ma io sto a Venezia per cui è diverso va a piedi a casa mangia quando finisce di mangiare provate ad immaginare se sia ammissibile dirgli ok adesso stai là seduto sulla sedia fino a stasera quando è il momento di mangiare di nuovo e dopo che hai mangiato siediti sulla sedia e adesso vai a dormire perché questo è quello che fanno bambini e adolescenti adesso cioè vanno a scuola il più delle volte accompagnati il più non sempre il più delle volte accompagnati stanno seduti a scuola tornano a casa stanno seduti a casa qualche volta escono due tre volte alla settimana a fare un'ora di giudo oppure di di palestra o quello che è perché ogni tanto le mamme mi dicono ma io gli faccio fare un sacco di palestri cioè di di attività motoria lo mando tre volte alla settimana in palestra vabbè ma attività motoria vuol dire anche fare i castelli di sabbia eh cioè vuol dire anche giocare con le biglie vuol dire ciondolare a cercare gli amici fino al cortile vicino alla piazza vicino ai giardini andare in altalena attività motoria non si stanno parlando di specializzazione sportiva beh io vi assicuro che un bambino del 1963 se gli aveste detto che deve stare seduto dall'una all'ora di cena su una sedia senza aver niente da fare perché è ovvio che non è la stessa cosa uno o guarda la tv o sta sul cellulare o guarda i video su youtube io lo so che fanno altre cose che sono impegnate ma non si impara molto semplice non si sviluppa apprendimento noi per sviluppare apprendimento abbiamo bisogno di quello che che si chiama proprio fare eh conoscere le cose noi conosciamo la tridimensionalità all'aperto ogni tanto mi dicono ma perché sono aumentati i DSA qua non lo apro la mia specializzazione è proprio sui DSA eccetera no i DSA su cui bisognerebbe parlare a lungo prima di chiamarli DSA ma comunque e torniamo a questo quello che la mano fa la mente dico la mente questo è un grande concetto non parlo di cervello mente è un concetto un pochino più quasi metafisico no la mente la mente dico quello che la mano fa la mente dico è vero io qualche volta dico se vuoi imparare qualcosa sai cosa fai la devi fare noi abbiamo i tutorial invece li uso anch'io io non li sto condannando però io so che nel momento in cui una cosa la faccio invece che vedere come si fa la prendo meglio non solo io anche il bambino anche l'adolescente anche l'anziano anche tutti siamo fatti così siamo fondamentalmente abbiamo tutti più o meno le stesse cose e torno ogni attività ma insomma parliamo perché un'attività lavorativa è utile nel momento in cui diventa un vissuto sto tagliando inesorabilmente perché ho già sforato i tre minuti ma adesso chiudo noi facciamo una differenza la fa una collega una collega bravissima mortaria fa una differenza fra esperienza e vissuto e spiega l'esperienza guardate l'esperienza è tutto quello che si fa e che prende forma quando il vissuto diventa oggetto di riflessione noi possiamo avere un'esperienza anche con siamo in un aereo che viene dirottato che esperienza subiamo un'esperienza è un'esperienza anche quella ma qui parliamo di un'esperienza che noi la facciamo poi diventare grazie all'ascolto facendo intervenire il pensiero vi ricordate empirico ermeneutico cioè facciamo qualcosa e poi pensiamo a come l'abbiamo fatto e diamo una grande importanza alle parole io lo dico sempre l'educatore il pedagogista sempre molto cura del lessico che usa perché la scienza procede per proposizioni anche per preposizioni in questo caso per proposizioni cioè si dice una frase si procede così io mi posso confrontare su quella frase posso anche smentirla noi sappiamo che c'è la verifica c'è la falsificazione noi nel momento in cui riusciamo a descrivere un'esperienza ecco quando riusciamo a descrivere l'importanza anche della narratività che c'è nel momento mio figlio aveva un problema che non riusciva a capire bene e lo capisco le categorie di Kant le categorie di Kant sono una di quelle maledizioni che tutti quanti vorrebbero non ritrovare più nella vita e lui ha detto guarda il modo migliore per capirle è che tu adesso me le insegni quindi lui si è preparato la lezione per spiegare a me le categorie di Kant effettivamente l'ha capito è il famoso mettere una volta si usava c'erano quelli che studiavano voce alta oppure quelli che avevano ripetitore effettivamente sì nel momento in cui vabbè io non entro troppo nel dettaglio io mi rifaccio anche alla scuola chi dice che ciò che non si sa dire non si sa neanche pensare però andiamo avanti la mortaria appunto diceva che se manca la pratica riflessiva viene meno il valore dell'esperienza e si perde il sapere esperienziale quindi qua si torna alla domanda iniziale ma è importante l'esperienza? certo come no? l'esperienza che deve essere fatta ho saltato un po' di cose perché torno alla definizione di inizio ogni attività lavorativa è di per sé utile? no no ho saltato un pezzo ci vediamo possiamo domandarci e chiacchierare ancora non di per sé stessa cioè l'esperienza il fare è sempre comunque utile il fare è utile perché il fare ti permette di fare ma non di per sé è importante se noi ne traiamo qualcosa su cui riflettere se noi la facciamo diventare una nostra esperienza la facciamo diventare parte del nostro vissuto e non ci limitiamo a subirla se riusciamo a raccontarla se riusciamo a parlarne e se riusciamo a ricavarne qualcosa allora sì se no è soltanto nociva perché il fare anche chi è ridotto in servitù diciamo fa non è detto che questa esperienza gli serve a qualcosa io concludo dicendo una cosa molto veloce così non so che pubblico che pubblico ci sia qua ho chiesto chi c'è perché io calibro di solito se ci sono studenti se ci sono insegnanti se ci sono operatori sociali eccetera però in realtà perché vi siete accorti probabilmente le mie le mie esposizioni sono molto spesso un po' tecnico teoriche no così però effettivamente e quindi se mi trovo ad avere a che fare con tutta gente che è già pedagogista ha una ripetizione dice vabbè ma queste cose già le sappiamo ma io ci devo dire una cosa a me è capitato proprio nel 2005 quindi quando ormai erano già più di più di dieci anni che mi ero laureato di rifrequentare un corso di Crispiani all'epoca un pedagogista un pedagogia speciale un ordinario pedagogia speciale che ripeteva cose che già sapevo e ho imparato cioè nel senso anche sentire cose che già si sanno e poi mi è capitato di vedere la Mortari la Luigina Mortari che è quello che ho citato prima e anche lei vedendo ho detto ma caspita ma guarda che effettivamente anche se io sono convinto già di per cui non sto dicendo così scusatemi se avete sentito cose che avevate già sentito ma magari può servire anche per fissare anche fissare qualche volta può servire sono qua credo che ci sia la pausa buon caffè a tutti accogliere e raccogliere sembrano due parole distinte e invece no sono una sola parola accogliere e raccogliere sono una sola parola accogliere sembra una parola legata al sociale raccogliere sembra una parola legata all'agricoltura ecco in due parole abbiamo già la sintesi di quello che stiamo dicendo dicendo oggi e quindi il mio intervento sarà un intervento sulle parole quindi tendenzialmente un intervento su un soggetto che si sta estinguendo cioè le parole infatti il titolo del mio intervento sarà un elogio del caro estinto la parola e quindi totalmente totalmente può essere anche tutto sommato abbastanza inutile no? e lo dico sempre quando vado a fare questo tipo di interventi conferenze o lezioni che il mio mestiere di scrittore è molto simile al mio mestiere di chi lavora quotidianamente con le persone con disabilità fisica e psichica perché questo io faccio è tutto sommato un lavoro inutile nel senso che non si creano presupposti per miglioramenti di chissà che natura no? e quindi avete presente i corsi per la sicurezza quelli che vi dicono a quali regole ottemperare quali sono i divieti a cui obbedire ecco i miei corsi sono sempre corsi per l'insicurezza perché poi ne uscirete meno sicuri di prima sicuramente e quindi non servirà poco se non voglio dire a fare una sorta di bagaglio a fare patrimonio si fa patrimonio perché? per rilasciare eredità abbiamo parlato anche prima una parola che poi si sente c'è questa lunga filiera millenaria di esperienze di conoscenze che sono state trasmesse in questa catena della trasmissione sono state trasmesse per secoli che poi a un certo punto si sono interrotte ed è quasi che noi avessimo il rifiuto in questa civiltà postindustriale di quello che è stato il passato se noi rifiutiamo ciò che è stato il passato probabilmente non abbiamo un'idea chiara di quello che sarà il futuro ed è questo il tema in fondo la paura del futuro però magari le cose che vi dirò possono farvi mettere in relazione in connessione alcune cose che non pensavate con l'agricoltura sociale perché poi in realtà io mi occupo come mestiere dell'agricoltura sociale e invece le cose che ci insegnano che non sono affatto collegate fra loro che ci hanno insegnato in questi decenni la parcializzazione pensate alla medicina ci avrete uno che vi studia le unghie dei piedi ma che magari non sarebbe di preciso com'è l'essere nella sua totalità e questa frantimolazione dell'io della nostra vita questa flessibilità la parola d'ordine del nostro del nostro tempo che ci impone sia sul luogo di lavoro e sul mercato del lavoro non fa che peggiorare la situazione e ci avvelena un po' la vita insomma in realtà è questa sorta di io la chiamo una sorta di narcosi soffici avvolgente che schiavizza in qualche modo la nostra vita imponendoci ritmi e orari che sono in realtà incompatibili con il nostro spirito con l'essenza del nostro spirito che quello lo spirito dell'essere umano è quello di comprendere e di godere della bellezza della complessità dell'esistenza questa sorta di narcosi che ci fa schiattare sul divano la sera stanchi morti con nessun altro desiderio che non il desiderio di andare a dormire questo che noi lo chiamiamo con una metafora molto elegante stile di vita logorio della vita moderna stress ma in realtà ha un altro nome siccome il mio intervento qui si occupa di parole vorrei essere molto chiaro su questo ha un altro nome e recuperare un senso alle parole riconsegnare alle parole il loro significato più profondo è un'operazione di verità nei confronti di noi stessi prima di tutto che dobbiamo noi stessi altrimenti siamo obbligati ad indossare una sorta di maschera e quando si indossa una maschera si entra nel campo della rappresentazione non più della realtà bisogna chiamare le cose con il loro nome in nome di un'operazione di verità che ci dobbiamo e quella narcosia avvolgente soffice di cui dicevo prima che si fa schiattare sul divano la sera e che noi con abili metafore per raccontarci un po' di palle chiamiamo stile di vita stress o chissà cos'altro si chiama in un altro modo si chiama consumismo ed è la conseguenza prima del capitalismo finanziario e selvaggio che da qualche decennio si è imposto in tutto il mondo e che ha trovato il suo volano imprescindibile nella globalizzazione la parola d'ordine di questo stile di vita fa virgolette è flessibilità e si basa sul fatto che niente dura che niente è a lungo termine e questo oltre che è un sintagma diventa un assunto filosofico nel senso che niente dura tutto si consuma tutto a un termine è normale è normale no e no che non è normale perché noi veniamo da una civiltà che è la civiltà contadina che sulla durata invece ha scommesso la propria esistenza i contadini sono sopravvissuti 12.000 anni perché si sono sintonizzati sulla durata del mondo sull'eternità delle cose sulla rinascita delle cose i contadini hanno inventato il tempo circolare il tempo che è per sempre noi viviamo in un tempo che è un tempo lineare dove invece le cose scadono il nostro tempo è a scadenza tutto una scadenza dalle birre alle medicine ai rapporti personali all'amore e dunque tutto è flessibile perché tutto scade e questo non fa che generare instabilità psichica allarme cognitivo ecco il consumismo basato sulla globalizzazione una volta basato sul capitalismo finanziario selvaggio ci insegna a vivere in condizioni di instabilità assoluta a vivere in equilibrio e tutti gli equilibri tutti gli equilibri sono angosciosi per natura pensate a chi sta sul filo è bravo perché sta in equilibrio ma l'angoscia di cadere è lì ad un passo di precarietà e la precarietà naturalmente che è l'altra parola nel nostro tempo la precarietà produce disagio mentale uno studio dimostra che il livello di sofferenza psichica è più che raddoppiato raddoppiato tra le persone nate nel 1946 e che quindi durante l'infanzia hanno avuto davanti agli occhi le macerie della più grande tragedia del nostro tempo cioè la seconda guerra mondiale e quelli nati negli anni 1970 80 che negli anni 80 durante la loro infanzia invece hanno avuto davanti agli occhi i duranduran no? la bellezza la bellezza degli anni spensierati è più che raddoppiato il disagio mentale di questi anni rispetto agli anni prima è un paradosso ma non lo è è così e questo disagio psichico compisce tutti non soltanto le persone più esposte non soltanto i soggetti fragili paradossalmente ma non molto ci potremmo potremmo anche dire che anche qui ci sono degli studi che lo confermono preferiremo sentirci depressi piuttosto che malinconici perché la depressione tutto sommato si può guarire o alleviare con qualche psicofarmaco mentre la malinconia è uno stato connaturato all'essere umano e non ci sono psicofarmaci che tengano quindi potremo ancora qui concedetevi un po' la divagazione a dire che la depressione è un'industria e ci lavora un sacco di gente mentre la malinconia è una forma di artigianato e lì devi fare i conti con i tuoi talenti con le tue capacità e con i tuoi personali disagi e quindi vi sto portando poco alla volta dentro il mio intervento che è l'importanza delle parole l'utilizzo delle parole vorrei partire da una cosa apparentemente strana l'avete vista le rondini? poche poche e i passerotti? pochi ci sono ma rispetto a qualche anno fa ce ne sono molti di meno molti di meno siete fortunati perché io non ne vedo eh sì io delle rondini ne vedo veramente poco comunque al di là di questo comunque siamo nel pieno della sesta estinzione di massa non allarmatevi è così ci sono state cinque prima non le sto ad elencare l'ultima insomma quella più pop quella che ha che ha messo in scena Spielberg in Jurassic Park insomma quella è venuta quella che sono alla fine dei dinosauri insomma è venuta 65 milioni di anni fa ma ce ne sono quattro prima adesso siamo nel pieno della sesta estinzione di massa e l'aspetto più drammatico è che per la prima volta i miliardi di anni a causare l'anomalo aumento di carbonio nell'aria è l'essere umano e secondo uno studio del WWF negli ultimi 40 anni l'uomo ha eliminato il 60% delle altre specie viventi e le statistiche vanno di pari passo con l'aumento di CO2 quindi si tratta della più grande crisi di biodiversità da quando esistiamo noi prima c'erano state prima di noi altre altre estensioni di massa due dati veloci giusto per dare il senso della della catastrofe ma non preoccupatevi comunque nel corso del novecento la popolazione si è moltiplicata per quattro l'economia per quattordici la produzione industriale per quaranta il consumo energetico per sedici le emissioni di CO2 per diciassette il consumo di acqua per nove la pesca marina per trentacinque l'aria irrigua per cinque mentre le foreste sono ridotte del venti per cento ora c'è un rapporto privilegiato tra l'essere umano e il pianeta terra la terra da sé non si definisce siamo noi attraverso le nostre parole a darle un senso a darle compiutezza a farle esistere e c'è una splendida storia di Ferecide di Siro riportata in uno dei pochissimi frammenti che ci sono rimasti di lui ecco Ferecide era un sapiente greco del settimo secolo avanti Cristo era nato nell'isola di Siro nel mare Geo e lui ci racconta in questo piccolo frammento che in principio la terra non era Gea cioè la Gaia dei Romani ma era Ctonie la nebulosa l'oscura la profonda e un giorno Ctonie come tutte le fanciulle deve convolare a giuste nozze e va in sposa a Zass che è il Dio del Cielo e cosa porta come dono nuziale Zass il Dio del Cielo a Ctonie la profonda la nebulosa l'oscura un mantello un mantello che lui stesso ha ricamato con le sue mani dove su questa stoffa del mantello lui ha ricamato le foreste i fiumi i laghi i pascoli i prati i cavalli e quando Zass il Dio del Cielo pone sulle spalle di Ctonie questo mantello Ctonie diventa Gea la bellissima la terra che ogni giorno vediamo davanti ai nostri occhi lo splendore della natura ecco questo mito di creazione è bellissimo di per sé ma se ci pensate quel mantello che Zass ha ricamato sono le parole la terra per trasformarsi da Ctonie lo scuro la nebulosa la profonda in Gea la bellissima si è indossata un mantello di parole nominare con precisione le cose permette di comprenderne l'essenza nominare distrattamente le cose con l'indolenza di chi pensa che tanto è uguale che la vita va semplificata sbaglia e ne paga le conseguenze Tullio De Mauro il signalinguista morto qualche anno fa ci spiega che un'istruzione medio alta può utilizzare fino a 47.000 vocaboli che sono un'enormità ma che il nostro linguaggio di base in italiano è circa 6.500 vocaboli più o meno però oggi no? quindi attraverso queste parole compiamo noi mettiamo a frutto la complessità del mondo indichiamo la complessità del mondo mentre oggi siamo piuttosto succubi di quell'unica parola che ci determina a tutti che è flessibilità e dunque la sesta estinzione estinguere viene dal latino extinguere che vuol dire spegnere del tutto oscurare ma anche soffocare un fuoco e dunque la sesta estinzione coinvolge soltanto la natura ma anche le parole le parole si stanno estinguendo in massa ed è per questo anche che il mondo si sta estinguendo perché non sappiamo più nominarlo o perché lo facciamo distrattamente perché tanto è uguale perché la complessità ci fa paura e allora è meglio semplificare è questo che ci insegnano semplificare c'era anche un ministro per la semplificazione figuriamoci ma se solo pensassimo alla genesi delle parole come sono nate capiremo che sì è vero che ci vuole tempo per passare dalla semplificazione alla complessità che è un lavoro faticoso che si fa fatica a passare dal nominare le cose in maniera semplice e distratamente a creare la complessità ma la complessità ti può salvare la vita perché tutto sommato è un'operazione semplice quella di far transitare l'aria dal diaframma attraverso l'esofago su la laringe il palado e farla uscire e però è più difficile ci sono voluti qualche millennio far partire l'aria dal diaframma farla risarire farla sbattere sul palato lavorarla con i denti lavorarla con la lingua e poi elaborare un suono un suono che indichi qualcosa un suono che sia un segnale ma se io dico o se qualcuno di noi umani ha detto la parola lupo o tigre allora quella fatica che è durata millenni è servita perché quel lupo che ho appena nominato non mi ha mangiato e non ha mangiato i miei figli ho urlato lupo e gli altri della tribù si sono avvicinati gli hanno fatto paura magari con il fuoco che ho appena imparato a nominare e lo hanno scacciato e a questo servono le parole e questa è la storia delle parole e questa è la storia degli esseri umani allora Treccani dice che l'essico fondamentale sono 2000 parole di uso frequentissimo di cui abbiamo padronanza sin dall'infanzia e che vengono utilizzate nel 90% dei nostri discorsi poi c'è il lessico di alto uso che sono 2500 parole meno frequenti e poi altre 2000 più o meno che sono utilizzate nel 1-2% dei nostri discorsi poi linguistica si fa la differenza fra le occorrenze e le parole per esempio Dante nella Divina Commedia usa l'occorrenza cioè la parola cel 106 volte quelle sono le occorrenze e quindi Dante per faccio un esempio usa nella Commedia 101.200 non 698 parole occorrenze perdonatemi mentre invece Dante sappiamo abbiamo appena detto 6.500 di cui 2.000 di uso frequente Dante ne usa 12.831 10 volte di più di quello che noi normalmente utilizziamo anche Luca Serianni che purtroppo è morto tragicamente l'anno scorso dice che sono 2.000 le parole fondamentali mentre invece le ultime inchieste parlano di un utilizzo di più o meno tra le 800 e le 1000 parole degli studenti universitari non so se il prof me lo può confermare ecco anche meno quindi immaginiamoci al bar al bar utilizziamo 300 parole e questo è un impoverimento un impoverimento che riguarda tutti noi perché è nella parola che sta al nostro senso e quindi adesso il mio mestiere è quello di fare agricoltura sociale attraverso le parole sono partito dalle parole per arrivare qui per chiedermi attraverso le parole cos'è l'agricoltura sociale e come diceva Nanni Moretti con il suo film dato che le parole sono importanti esiste l'agricoltura sociale? può esistere? sembra una domanda oziosa ma alla fine del mio intervento forse capiremo che non lo è sicuramente ha un senso aspirare all'agricoltura sociale come oggi l'abbiamo descritta come in altri convegni come questo andiamo a definire in qualche modo perché l'agricoltura intanto è democratica per natura ma l'agricoltura sociale è un processo e perciò non c'è non c'è un'applicazione una famosa app un metodo delle istituzioni per l'uso per attuare l'agricoltura sociale si va per tentativi io mi lascio so che voi avete già fame però lasciatemi fare perché è carina questa cosa il abbiamo sentito il ministro di questa repubblica parlare di sostituzione etnica una parola che si pensava fosse stata messa nel cassetto dell'ottocento e la prima conseguenza è la parola razzismo allora l'agricoltura è democratica per natura ho detto bene Jared Diamond che è un antropologo americano ci spiega questa cosa qui allora intanto l'agricoltura è nata nella mezzaluna fertile territorio ora desertico che fra i due fiumi fra il tigri e le ufrate e poi scendeva giù per la fenicia cioè il libano e la parte di israele lì è nata l'agricoltura 12.000 anni fa più o meno lì ricordiamocelo c'erano al pascolo normalmente i buoi e i cavalli quindi animali facilmente addomesticabili lì ricordiamocelo poi dopo l'agricoltura sono nate le città quindi la civiltà lì è nata la scrittura allora Jared Diamond ci fa questo esempio perché nel 1532 il bandito perché questo era Pizarro sbarcato in Perù nella battaglia di Cajamarca lui con 40 cavalli e 80 uomini e qualche cane ha battuto e distrutto la civiltà Inca dove gli Inca sarmati di archi e di frecce ma pronti a sacrificarsi per l'imperatore Atahualpa perché perché Pizarro era il bandito Pizarro era più intelligente no dice Jared Diamond perché per esempio nella Mesa Runa Fertile c'erano i buoi da domesticare ed era più facile domesticare un bue piuttosto che correre dietro a un lama sulle Ande a 4000 metri d'altezza dove dopo due metri che fai sei senza fiato questo è un esempio e perché perché ci sono i continenti c'è l'Oceania e poi c'è l'Europa l'Asia l'Eurasia è un unico continente secondo Diamond vada Finisterre a Vladivostok sull'Eurasia è possibile per gli esseri umani che si sono spottati dall'Africa arrivare lì e non ci sono grandi barriere sono gli Urali poi ci sono l'Himalaya più sotto c'era modo di comunicare tra il Golfo di Biscaglia e Vladivostok senza avere grandi problemi di ordine orografico per esempio senza aver attraversare i deserti se pensate alle Americhe dall'Alaska una buona partita dall'Alaska ed arrivare a Ushuaia deve attraversare l'Alaska deve attraversare la foresta equatoriale del che va dal Messico alla Colombia e su cavoli amari e poi deve attraversare tutta la Patagonia e anche lì insomma è dovretta parti dall'Africa parti da Tunisi fatti tutto Sahara fatti la foresta equatoriale fatti i Galari e forse arrivi vivo a Johannesburg no? e quindi le comunicazioni e tutto quello che poi è diventato l'agricoltura la civiltà le città la scrittura sono nate più facilmente in un luogo dove le comunicazioni erano più semplici dove Drafinister e Vladivostok si arrivava in un lampo e allora dice non io ma Jared Diamond che se il bandito Pizarro ha vinto quella battaglia non era perché era più intelligente adesso perdonate la volgarità ma è una questione di culo perché lui è arrivato alle armi che hanno ammazzato gli incas le armi da fuoco la polvere da sparo prima degli altri perché per tutta quella serie di motivi che abbiamo prima elencato allora mi sono divertito a prendere siccome l'intervento è sulle parole una definizione qualsiasi da internet sull'agricoltura sociale e vorrei farne le pulci perché le parole sono importanti ma posso anche essere forvianti allora cominciamo da qui dice la citazione l'agricoltura sociale comprende l'insieme di pratiche perché sono le pratiche perché non la teoria l'ha detto prima il professore ecco esatto senza una buona pratica non c'è una buona alla spalla di una buona pratica c'è una buona teoria infatti tutti quelli che parlano anche di agricoltura biologica no le buone pratiche in agricoltura di che parliamo cioè ci vuole una buona teoria alle spalle no se non si fa nulla le proprime di pratiche svolte su un territorio e qui andiamo male e qui andiamo molto male territorio è una delle parole più abusate dell'ultimo decennio si fa riferimento al territorio per qualsiasi cosa molto spesso quando non si sa collocare una data cosa in un dato posto oppure non si sa non si sa di preciso chi è che chi è che nomina cosa si dice è il territorio occhi ai politici che lo dicono sempre lo impone il territorio eh ce lo chiede il territorio va bene niente più indistinto del territorio se si vuole salvare in corner si accenna al territorio allora riferito a chi a un'entità politica a un gruppo di persone oppure il territorio ha una dimensione geografica fisica concreta con dei confini precisi dove inizia e dove finisce un territorio che confinia che poi voglio dire si è qualcosa di medievale non il territorio il feudo siamo tornati un po' siccome stiamo tornando in ricoltura un po' al latifondo perché non c'è più neanche possibilità di eh di per i piccoli contadini di mantenere le loro piccole le piccole realtà perché oggi senza 50 eteri a a intensiva non campi chi c'ha i soldi quelli che prendono i soldi della PAC quelli che prendono i soldi della PAC comprano quelli che hanno io sono andato una volta in banca faccio il contadino sono uno di quelli che poi degli anni 70 adesso io ero nato nel 60 ho voluto fare il contadino mio padre mi ha detto ma che sei scemo eh sì mio padre è uscito dalla sua condizione di contadino l'ha fatto l'impiegato comunale mi ha detto ma tu sei scemo che vuoi fare il contadino eppure sono andato in banca gli ho chiesto un piccolo prestito per la piccola proprietà contadina e il direttore di banca mi ha chiesto mi ha detto ma lei è già proprietario e no se non sarei venuto qui a Miraglio scusi e allora non può accedere al prestito e questa è la legge siccome io non avevo terra non potevo comprare terra chi ha la terra compra la terra di quelli che non hanno soldi per comprarsi la terra va bene ok allora il feudo e allora ogni volta ecco direi questo ogni volta che è un politico un conferenziere un espositore parla del territorio alziamoci in piedi chiediamo mi scusi cos'è di preciso il territorio a cui lei si riferisce perché se no si passa tutto in cavalleria e ci fanno passare pescemi perché la complessità è anche queste cose qua allora c'è un'altra parola per esempio che è un po' meno indistinta di questa ed è la parola che non è la stessa cosa per carità ma insomma utilizziamola quando serve la parola paesaggio c'è una convenzione a Firenze del 2000 sul paesaggio che lo espone chiaramente dice uno il paesaggio è il prodotto storico della cultura e del lavoro dell'uomo sulla natura due il paesaggio definisce l'identità dei luoghi ed è l'elemento costitutivo della stessa identità della comunità tre la parola paesaggio designa una determinata parte del territorio così come è percepito dalle popolazioni dettaglio non insignificante cioè è la popolazione che fa il territorio non è il politico che la nomina quattro il paesaggio va salvaguardato gestito pianificato allora come vedete la parola paesaggio presuppone l'essere umano lo contempla e porta con sé altre parole straordinarie avete sentito comunità identità il paesaggio designa una parte del territorio e quel paesaggio possiamo essere noi stessi e credo che sia la più grande impresa a cui siamo chiamati se vogliamo evitare o almeno attenuare un po' i disagi della prossima sesta estinzione Ventura che dicono arriverà al suo cumine mi dica se sbaglio prof nel 2100 più o meno dove le specie che noi con l'aumento del carbonio faremo estinguere si avvicineranno a quella media tra 70 e 80% di tutte le altre cinque estinzioni precedenti e quindi se vogliamo tentare di attenuarne gli effetti catastrofici dovremmo diventare noi stessi paesaggio e se noi stessi sappiamo identificarsi nel paesaggio prenderemo coscienza che tutto ciò che viene fatto al paesaggio viene fatto a noi e che ogni stupro ogni violenza ogni sopraffazione fatta al paesaggio è una violenza uno stupro una sopraffazione fatta sulla nostra carne viva allora la definizione dice un'altra cosa anche l'avicoltura sociale comprende l'insieme di pratiche svolte su un territorio sono finalizzate a generare benefici inclusivi favorire percorsi terapeutici riabilitative riabilitativi scusate e di cura altra parola un po' abusata allora andiamoci dentro cos'è la cura? si cura per guarire naturalmente guarire viene dall'antico germanico varian riparare che a sua volta trae origine dalla radice var che vuol dire guardare proteggere quindi tecnicamente si tratta di un verbo difensivo proteggere impedire difendere un verbo che ha a che fare con la resistenza ma la stessa radice in lingua inglese ci apre invece un altro spiraglio to wear vuol dire prendersi cura avere riguardo guardare dal male per impedire che il male accada cioè prevenire il male e quindi guardare nella prima accezione avere riguardo nella seconda guardare e avere riguardo e se guardare è ovviamente un verbo legato alla vista lo è anche avere riguardo anche se con meno evidenza perché letteralmente significa guardarsi indietro poi nella sua nella sua evoluzione semantica è diventato quello che conosciamo no? quindi curare è guarire ma come si fa a guarire? io lavoro con quello che oggi altra bella parola fantastica oggi quello che il political e-correct ci impedisce di dire no? ma che Basaglia per primo diceva io lavoro con i matti faccio partire dei progetti di agricoltura sociale ancora adesso ne lavoro con seguo due ragazzi che lavorano con me nella mia azienda agricola ogni giorno e e faccio questo di mestiere oltre che scrivere e assurnare basta non faccio altro dunque i matti e poi è vero che passa questa leggenda che i matti dicono sempre la verità i matti profetizzano i matti gli oracoli i veggenti profetizzano e in molte culture i matti sono considerati sacri intoccabili in sanscrito sacro vuol dire separato la separazione tra sani e matti è iniziata non come una segregazione ma perché i sani concedevano ai matti il dono della profezia i matti dicono quello che noi non vogliamo sapere o che noi razionalmente non comprendiamo i matti dicono cose vedono cose che i sani non riescono a vedere adesso vi racconto un piccolo episodio veloce 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 che mi farà ridere perché io un matto profeta l'ho conosciuto per davvero e si chiama ed è ancora fa di noi vivente si chiama Bruno quando ho lavorato al piccolo cotolengo di Santa Maria La Longa lui lavorava con me e mi veniva una persona squisita oltre 70 anni piccolino molto molto loquace però non sapete leggere né scrivere sono un ritardo mentale che non gli impedisse di vivere normalmente però quando ero sulla bilancia per pesare le verdure li mettevo su Bruno non conosci i numeri quant'è 30 no è sbagliato 40 vabbè ok quando arrivavo con la macchina veniva sempre lì ad accogliermi e mi dicevo le sue le sue le sue storie un giorno arrivo chiudo la macchina lui arriva a salutarmi mi fa e io dico ciao Bruno come stai bene bene sai sono guarito ah ho detto io preoccupato eri malato no 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 era guarito e non si era malato e allora mi sono chiesto cosa cavolo ha detto perché poi no no razionali uno era noi siamo razionali siamo degli esseri razionali quindi le cose passano in cavalleria le lasciamo passare ma se pensiamo che mica millenni fa ma insomma quando Agamemnon è partito per la per la guerra di Troia insomma ha chiesto all'oracolo di Delphi come sarebbero andate le cose e l'oracolo di Delphi che era una signora che stava sotto no dove i sacerdoti mettevano del fumo lei andava in estasi e diceva delle cose che poi i sacerdoti stessi interpretavano e gli hanno detto ammazzata tua figlia per andare in se vuoi che la guerra vada bene no in Figenia e noi non so il mito qui è abbastanza no ci sono diverse versioni ma questo qui siccome una donna un oracolo sotto nella caverna del tempio di Delphi ha detto ammassa tua figlia se no le cose andranno male questo qui era disposto ad ammazzarla quindi non è che poi noi viviamo in un mondo così razionale no o che siamo diventati razionali o che lo siamo da sempre i presagi fanno parte della nostra cultura le cose misteriose il mistero fa parte della nostra cultura poi che abbiamo fatto dell'operetta anche sul mistero Roberto Giacobbo ci insegna ma insomma con le piramidi d'Egitto con le cose lì vabbè comunque allora vado avanti vado a finire no e poi dice la come si chiama la definizione dice sostenere l'inserimento sociale o attività delle facce della popolazione bla 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 a tale attività sono realizzate in cooperazione con i servizi sottosanitari e gli enti pubblici competenti del territorio no e sottoposte a verifiche periodiche da parte di chi non si sa l'agricoltura sociale è una prassi di sviluppo locale sostenibile socialmente economicamente ed ecologicamente e questo cosa vuol dire perché se no vuol dire ripetiamo formule vuote allora essere so secondo me nella mia modestissima opinione essere sostenibile socialmente economicamente e ecologicamente significa che tra chi pratica l'agricoltura sociale e i famosi enti pubblici competenti del territorio ci dovrebbe essere una potente sinergia che la fattoria sociale dove si pratica l'agricoltura dovrebbe fornire i suoi prodotti con i suoi prodotti il territorio qualunque cosa esso sia che dovrebbe essere riconosciuto una sua centralità su quello stesso territorio che dovrebbe essere sostenuta finanziariamente dai comuni facenti parte di quel territorio o di quell'ambito che dovrebbe diventare una specie di microcosmo che si muove in osmosi dentro il macrocosmo di questo famoso territorio di riferimento e che secondo me è cosa importantissima ogni fattoria sociale dovrebbe diventare per chi ci opera all'interno e per chi la segue dall'esterno una sorta di spazio iniziatico uno spazio di libertà di democrazia e di giustizia che ridà un valore al lavoro e quindi vado a finire a fronte di tutto questo vorrei riproporre una domanda che ho posto all'inizio esiste l'agricoltura sociale? può esistere? e la risposta è no perché? e qui argomentiamo se no parliamo delle parole e qui bisogna argomentare perché dobbiamo restare allertati non possiamo accomodarci l'agricoltura sociale non è un pranzo di gala per citare quel tipo non possiamo sederci a tavola e dire ecco ce l'abbiamo fatta perché l'agricoltura sociale è un processo è un divenire non si arriva mai da nessuna parte e nessuno salva mai nessuno ci deve essere cooperazione fra diverse parti e soprattutto bisogna sempre alzare l'asticella delle pretese per evitare che qualcuno resti indietro questo è quello che intendeva secondo me Basaglia quando parlava di utopia reale l'utopia reale si concretizza nella realtà ma rimane un sogno da raggiungere e il sogno è che nessuno resti indietro e voglio finire con questa frase di Basaglia che tratta dal suo libro sulle conferenze brasiliane dell'ottanta dice Basaglia in questa minoranza che siamo noi non possiamo vincere perché è il potere che vince sempre noi possiamo al massimo convincere nel momento in cui convinciamo noi vinciamo cioè determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare cosa dice Basaglia secondo me in questa sua affermazione dice che noi soprattutto in occidente abbiamo assorbito la cultura della vittoria che è diventata una cultura pervasiva la competitività è diventata un valore la concorrenza è diventata un valore il commercio non rappresenta più un lavoro ma è un valore se non è successo se non vinci non sei niente ci hanno insegnato così tutte le biografie sono tutte di uomini vincenti che non hanno mai sofferto una sconfitta che non hanno mai avuto un handicap e se lo hanno avuto è per vendicarsi di quell'handicap che sono diventati dei vincenti quel grande uomo era timido ma per ribellarsi alla sua timidezza è diventato un grande manager quell'altro era storpio quell'altro era orfano tutti senza alcun handicap oppure con un handicap di cui si volevano vendicare per essere dei vincenti tutti vincenti tutti vincenti e soli si vince sempre soltanto da soli abbiamo assorbito la cultura della vittoria ma noi dice Basaglia noi che stiamo ogni giorno a contatto con chi è perdente per definizione noi non possiamo vincere possiamo soltanto convincere noi possiamo vincere solo con con gli altri insieme agli altri abbiamo perso invece la cultura della sconfitta la civiltà contadina ci ha insegnato che esiste una cultura della sconfitta che è l'altra faccia della vittoria che la grande vittoria è aver inventato la parola lupo o tigre e allarmato la comunità e la comunità ha scacciato il lupo o la tigre e la potenziale sconfitta del singolo si è trasformata nella palese vittoria della comunità dice Basaglia che noi che se noi convinciamo cioè se facciamo comunità determiniamo una situazione di trasformazione difficile da recuperare e qui manca una parola difficile da recuperare da parte di chi e c'è sottointeso da parte del potere il potere perde se noi convinciamo se noi poco alla volta con l'ausilio delle parole rifiutiamo la parola se flessibilità e diventiamo in questo inflessibili ecco allora l'ultimissima cosa è questa Basaglia accenna alla situazione di trasformazione che è una metafora perché nel caso di Basaglia la parola da usare era ed è rivoluzione quella fatta per il suo settore di competenza pacifica salutare definitiva ecco non facciamocela portare via grazie 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 grazie